Buonasera a tutti, benvenuti, ben collegati a questo incontro, convegno dedicato all'allegoria in Dante e alle allegorie non solo in Dante ma che riguardano Dante. Lascio subito la parola al decano della facoltà di giurisprudenza, professor Diego Quaglioni, poi al coordinatore del CEASUM, professor Maurizio Giangiulio e alla consigliera della Toscana, professoressa Cristina Giacchi. Quindi, professor Quaglioni, le lascio la parola. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Io intervengo in qualità di decano della facoltà di giurisprudenza per portare il saluto del preside della facoltà e della facoltà tutta, gli amici e colleghi che sono qui riuniti nel nome di Dante. Io posso solo ricordare che la mia facoltà a Trento è da un ventennio, una delle pochissime e per molto tempo è stata anche la sola facoltà, ad avere tra i suoi insegnamenti curricolari un corso di diritto e letteratura. E devo ricordare che spesso questo corso è stato dedicato a Dante e al suo rapporto con il diritto e al rapporto dei giuristi del suo tempo con Dante stesso. Non solo alla ricerca del peso che il linguaggio giuridico, la lingua del diritto ha nel testo di Dante, nei testi di Dante, ma anche alla ricerca del peso che il linguaggio dantesco e l'uso dantesco della lingua hanno avuto per il mondo dei giuristi e per la cultura giuridica. Non solo dell'età intermedia, ma in una lunga durata di tempo. Allora, questa caratteristica della facoltà mi è sempre stata cara, sia quando mi è toccato appunto molti anni fa di essere il direttore del dipartimento di scienze giuridiche e il preside di giudisprudenza, e mi è cara tuttora. Questo credo sia un fatto che ha un significato culturale per una facoltà di giudisprudenza. Serve anche a, come dire, a svecchiare certe tendenze culturali che continuano ad immaginare la facoltà giuridica come un luogo deputato esclusivamente alla formazione di tecnici e non come un luogo di cultura e a prospettare un nuovo collegamento tra la cultura letteraria, filosofica e la cultura giuridica e giuridico-politica. È una speranza e credo che questo convegno, incontro di studio, sia un passo verso la realizzazione di questa speranza. Dunque, un ringraziamento a tutti gli illustri colleghi e agli amici carissimi che sono qui presenti e buon lavoro a tutti. Io sono qui nella doppia veste di istituzione, come la nostra Presidente, prima che cominciassimo i lavori, ha ricordato, ma sono qui anche nella veste di oratore, quindi tra breve toccherà anche a me dire qualcosa. Grazie ancora agli organizzatori e a tutti i convenuti. Bene, grazie. Passo direttamente la parola al coordinatore del CEASUM, professor Maurizio Gian Giulio. Sì, grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Sono molto lieto di questo invito ad una presentazione, se vogliamo un salamelecco, ma che è particolarmente sentito per pochissimi importanti motivi che vorrei rapidamente ricordare. Fatemi dire cos'è il CEASUM, perché gli acronimi sono sempre misteriosi. Centro di altri studi umanistici finanziato nell'ambito del progetto Dipartimenti di Eccellenza del Ministero, che ha premiato lettere, ha premiato giurisprudenza, ha premiato alcuni, non tutti, altri dipartimenti dell'Università di Trento. Noi abbiamo articolato un progetto che è in due parole verte sugli incontri di culture, in senso diacronico e sincronico, e abbiamo anche strutturato questo progetto in centri di attività. Il CEASUM è appunto un centro che ha inteso promuovere, organizzare, patrocinare iniziative di ricerca, di pubblicazione, di diffusione della ricerca. Da questo punto di vista devo sottolineare l'importanza particolare di questa occasione, perché non solo il CEASUM dà il suo patrocinio a un convegno così importante, così internazionale, così focalizzato e mirato nei suoi contenuti, così autorevolmente corredato di presenze illustri, ma partecipa in un certo senso con Semper, che ha vissuto una storia precedente al CEASUM, Semper, ma ha vissuto gli ultimi anni all'interno del CEASUM, il CEASUM ha sostenuto Semper, e Semper lo ha illustrato con le sue lezioni e le sue conferenze. Sono contento di rivedere, sia pure sul video, Francesco Zambon, perché di questa storia, della storia di Semper e dei rapporti di Semper con il CEASUM all'interno di Lettera, è stato Magna Pars. Poi c'è un altro motivo che mi sembra fondamentale e che giustifica insomma questo senso di contentezza che io ho, che abbiamo noi a Lettera, e molti di noi perlomeno, Lettera è molto complessa. Il motivo è che questo è un convegno che al di là di Dante, al di là dell'allegoria, si pone il problema di che cosa significhino i testi, cosa significano le parole. Al di là della lettera, no? Ecco, io credo che tutto questo sia di una straordinaria attualità, perché oggi le parole sono usate sempre di più come se nulla significassero. e i testi sono letti e utilizzati come se significassero sempre e soltanto una cosa sola e quella che appare alla più veloce, immediata e distratta delle letture. Da questo punto di vista, riflettere sulle interpretazioni allegoriche o su altre tecniche esegetiche dei testi, credo che sia una lezione. L'ultimo motivo, e poi mi taccio, è che c'è in questo convegno all'opera una idea di collaborazione tra saperi umanistico-letterari, saperi storico-giuridici. E come ha detto magnificamente il collega Quaglioni, ce n'è molto bisogno. Quindi grazie a voi di aver organizzato tutto questo, un cordialissimo buon lavoro e di nuovo un saluto molto cordiale, unito alle scuse legate a questa mia attività di pietas filiale, che ha anche una giustificazione giuridica, sia chiaro, che c'è un problema di salute in corso, motivo per il quale mi dovrò assentare. Grazie e di nuovo saluti e auguri a tutti. Molte grazie al professor Gian Giulio. E al passo direttamente la parola a Cristina Giacchi, amica e consigliere regionale della Toscana. Grazie, grazie Claudia. Buonasera a tutti, ben trovati. Devo dire che mi fa particolarmente piacere portare il saluto della regione toscana, del Consiglio regionale toscano e della Commissione Cultura che presiedo in seno a quell'Assemblea in questa occasione, per tante ragioni, perché Claudia è una amica, ma è anche una studiosa di cui conosco il valore e devo dire l'impianto di questo convegno le fa onore ed è un'impresa titanica, per cui mi complimento già con lei per gli illustri partecipanti, alcuni li abbiamo già sentiti nella doppia veste, altri li sentirete, li sentiremo nel corso di questi giorni di lavori, per l'Università di Trento e per questo felice connubio tra il diritto che io amo profondamente, la storia del diritto che è il mio settore di studio e di lavoro vero, diciamo a parte l'essere imprestata la politica, il diritto romano e la letteratura. Il tema dei testi, del testo, della lingua, dei significati e dell'interpretazione tocca tantissimo la dimensione di chi studia il diritto e soprattutto il diritto antico ed è uno dei temi che, diciamo, nella forma dello studio dell'allegoria dell'allegoria più rende forse anche attuali i temi che voi tratterete oggi da super esperti. Non dirò nulla di dantesco, di allegorico, non avrò questa improntitudine, ma dico anche che mi fa piacere essere qui oggi perché sono tirata di qua e di là per molte iniziative in occasione di questo anno che è il settecentenario della morte di Dante e devo dire finalmente anche una bella iniziativa scientifica di grande livello a sottolineare questa figura dal valore universale che devo dire sarà contento di essere sbertucciato e masticato così in tutto il mondo e anche in una dimensione anche molto pop, però credo che quando poi alle parole somme di Dante tornano gli studiosi e si dedica all'intenzione scientifica di chi lavora e studia e approfondisce, ecco io credo che anche lui si riposi e si senta un po' più forse a suo agio, non lo so. È chiaramente una grande sfida quella di cercare di tenere insieme queste due dimensioni, cerchiamo di farlo ogni giorno, ma ripeto è bene che ognuno faccia poi il suo mestiere. Saluto attraverso il professor Quaglioni anche l'Università di Trento che ospita appunto questa pregevole iniziativa, ma anche il dato di fondo che la rende possibile e questo incontro e questo convivere delle dimensioni appunto letteraria e storico-giuridica. Io ho un ricordo autobiografico che condivido con voi prima di lasciarvi ai vostri lavori che sono molti più importanti. Quando iniziai i miei studi in giurisprudenza non ero molto convinta e stavo quasi per cambiare facoltà finché incontrai un professore che poi è stato il mio maestro con cui ho fatto tutta la mia cadiera accademica e la sua prima lezione introducendo il diritto romano e parlando dei giuristi in generale soprattutto dal punto di vista degli aspetti culturali disse sapete noi siamo i più umanisti tra i tecnici e i più tecnici fra gli umanisti. Questa frase mi rimase scolpita e mi convince arrestare ancora un po' giurisprudenza prima di decidere di abbandonarla non l'ho più abbandonata mi sono laureata con quel professore che era Aldo Schiavone e poi con lui ho fatto la mia la mia carriera e i miei studi ecco per dire che e con questo vi lascio oggi con questo con l'esordio di questo importante convegno e con il lavoro che si fa a Trento su diritto e letteratura si tocca una dimensione che mi è anche molto cara oltre che diciamo a condividerla culturalmente scientificamente quindi vi ringrazio ringrazio tutti coloro che parteciperanno a questa iniziativa soprattutto anche coloro che ne portano la fatica tutti gli organizzatori chi sta dietro le quinte e la professoressa Di Fonso che l'ha generosamente e in modo molto creativo messa in piedi custodita e presentata a tutti noi quindi grazie e davvero buon lavoro a tutti grazie Cristina grazie molte quindi partiamo subito dopo questa introduzione questa bella introduzione partiamo subito con le lezioni magistrali che avremo questo pomeriggio e sarà avremo Francesco Zambon Diego Quaglioni e Lino Pertile ve li presenterò uno alla volta quindi iniziamo con la lezione di Francesco Zambon che è professore merito all'Università di Trento è un filologo romanzo ha insegnato in molte università europee a Grenoble a Padova a Trento a Toulouse a Montpellier dal 2017 ha tenuto una cerdete al Collège de France ha dedicato numerosi studi alla letteratura allegorica e religiosa del medioevo latino e romanzo in particolare i bestiari che sono usciti da poco al ciclo romanzesco del Graal e ad altri aspetti della narrativa francese e medievale poi alla poesia politico religiosa occitana del XIII secolo alla dottrina e ai testi catari di cui ha edito e tradotto il libro dei due principi alla mistica amorosa del XII e XIII secolo alla letteratura italiana delle origini con alcune incursioni importantissime in Dante come quella che riguarda l'intelletto d'amore credo che sia questa suscettibile di ulteriori sviluppi se ho capito bene ha scritto anche su poeti del Novecento italiani europei Montale Pasolini Pascoli Piero che insomma non è bel Nobel ma insomma Ceronetti Zanzotto Pessoa dirige una collana importante insieme a Mario Mancini che ha ci ha permesso di avere una serie di testi della letteratura medievale in traduzione la piccola la non piccola la biblioteca medievale sbaglio sempre Carocci con Carocci è presidente della giuria del premio letterario Benno Geiger per la traduzione poetica è un'occasione questa quest'anno è stata particolarmente interessante organizzato organizzato dalla fondazione Giorgio Cini di Venezia poi è socio dell'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti e potrei dire molto altro dico che è in preparazione un'opera per i meridiani mondadori sulla mistica di cui un volume è già uscito è già uscito da poco e quindi è uscito il secondo volume e niente con questo gli cedo la parola perché potrei continuare a parlare ma insomma direi che lo ascolterete sta preparando un libro sull'allegoria che credo sia già stato consegnato una breve storia dell'allegoria dall'antichità al medioevo e quindi direi che è la persona più adatta per farci proprio introdurci alla storia dell'allegoria dell'interpretazione allegorica dall'antichità fino al medioevo grazie e gli passo la parola grazie molte dell'invito e della presentazione anche se troppo dettagliata queste sono cose da scrivere così nelle informazioni bibliografiche che si mettono nelle quarte di copertina insomma non era necessario entrare forse in questi dettagli grazie comunque il sottotitolo del mio titolo cioè Dante dire altro e non dire è allegoria dei poeti e linguaggio dell'ineffabilità nella poetica di Dante il ruolo cruciale della dell'allegoria nell'opera di Dante non è più in discussione dopo i fondamentali studi in particolare di Curzius di Auerbach di Sinton e di altri ci sarebbe da questo punto di vista sarebbe necessario da questo punto di vista fare una premessa di storia della critica ma la evito per non allungare troppo il mio intervento eventualmente si potrà ritornare su questi aspetti nella discussione alla fine ora uno dei fondamenti di questa prospettiva ermeneutica è l'applicabilità alla commedia della tradizionale quadripartizione dei sensi della Bibbia secondo quanto si legge nell'epistola Can Grande dove Dante se la lettera è sua e io personalmente ne sono convinto penso che diciamo gli argomenti contro la sua attribuibilità a Dante non siano provanti ma se anche la lettera non fosse di Dante come si vedrà in seguito credo che questo non inficerebbe le mie argomenti dunque appunto secondo quanto si legge nella lettera a Can Grande dove Dante afferma che il significato della commedia non è uno solo ma è polissimos cioè di più significati letterale allegorico morale anagonico non del tutto risolto resta a mio parere tuttavia in questa prospettiva ermeneutica il problema del rapporto tra questo modello allegorico e la distinzione fra allegoria dei teologi e allegoria dei poeti che Dante formula esplicitamente nel convivio qui infatti il secondo senso quello allegorico è definito come quello che si nasconde sotto il manto di queste favole cioè le favole dei poeti ed è una verità a scosa sotto bella menzogna siccome quando dice Orfeo facea con la cetera mansuete le fiere e gli arbori e le pietre a sé muovere eccetera dopo aver distinto da questa l'allegoria dei teologi Dante dichiara apertamente però che mia intenzione è qui lo modo degli poeti seguitare prendo lo senso allegorico secondo che per gli poeti è usato cioè usato dai la difficoltà principale è data dal contraccolpo per così dire che questa definizione dell'allegoria provoca su quella del senso letterale secondo il modello cristiano il senso letterale spesso chiamato anche storico comporta una realtà effettiva quella in specie dei fatti narrati nell'antico testamento e considerati come tipi o figure prefigurazioni della rivelazione neotestamentale completamente diverso è lo statuto della lettera in quella che Dante chiama allegoria dei poeti qui infatti e lo stesso Dante come si vede ne era pienamente consapevole il senso letterale è pura ficzio è soltanto una fabula una bella menzogna sotto la quale si nasconde una verità non è difficile immaginare quale portata avrebbe l'applicazione di un simile modello ermeneutico alla commedia la narrazione del viaggio compiuto da Dante nei tre regni e dell'aldilà non dovrebbe essere considerata come il resoconto di un viaggio reale ma come una bella favola sotto la quale il lettore una finzione sotto la quale il lettore è invitato a cercare il significato allegorio alcuni fra gli esponenti critici della tendenza critica prima ricordata hanno ritenuto di poter aggirare la difficoltà sostenendo che lo schema da applicare alla commedia è quello illustrato nell'epistola can grande dove si parla esclusivamente di allegorie in senso teologico con la quadripartizione dei sensi mentre il discorso relativo all'allegoria dei poeti non sarebbe valido che all'interno del convivio scrive per esempio Robert Hollander la divina commedia ci informa la lettera a can grande va compresa per mezzo delle tecniche allegoriche che sono specificamente e unicamente cristiane non come il convivio attraverso l'allegoria dei poeti l'affermazione sembra a prima vista ragionevole e fondata ma essa comporta forse un'eccessiva semplificazione della complessa strategia autoesegetica di Dante non si può dimenticare del resto che la stessa epistola can grande definisce la forma sive modus trattandi del poema come poeticus e fictivus in realtà nell'epistola il problema dell'affizio dell'allegoria dei poeti Dante sembrava aver abbandonato dopo il convivio si ripresenta in una diversa luce ma con eccezionale rilievo teorico nella finale autoesegesi del primo canto del paradiso dedicata essenzialmente al tema dell'ineffabilità su questo tema ormai esistono numerose indagini dal vecchio studio di Luigi Tonelli fino alla più recente la guerra della lingua di Giuseppe Leda per citare solo qualche lavoro tra i molti ma è rimasto ancora abbastanza in ombra il rapporto fra questo tema e la riflessione dantesca sul quadruplice senso della scrittura eppure dovrebbe essere evidente che il discorso sul limite del linguaggio nella commedia come nell'epistola can grande si situa precisamente all'interno del problema del linguaggio allegorio cioè di quel genere di linguaggio che tende verso il proprio superamento che secondo l'etimologia ricordata dallo stesso Dante nell'epistola aspira a qualcosa d'altro da ciò che dice qualcosa di alienum di diversum sono gli aggettivi usati da Dante al paragrafo 28 dell'epistola Dante si riferisce ai famosi versi 4-9 del primo canto del paradiso nel cielo che più della sua luce prende fu io e vidi cose che di dire né sa né può chi di lassù discende perché appressando sé al suo disire nostro intelletto si profonda tanto che dietro la memoria non può dire e commenta dopo che il poeta ha detto con la sua circonlocuzione qui cito la traduzione di Giuseppe Brugnoli mi sembra poi parlerò di queste traduzioni sì la traduzione di Giuseppe Brugnoli nell'edizione Giorgio Brugnoli Giorgio Brugnoli scusi ma era il direttore a Torbergata quindi è un ricordo certo Giorgio Brugnoli sì cioè l'edizione Ricciardi delle opere di Dante dopo che il poeta ha detto con la sua circonlocuzione che fu in quel luogo del paradiso prosegue dicendo che vide cose che ridire non può chi ne discende e ne spiega la ragione dicendo che l'intelletto si profonda tanto nel suo desire cioè Dio che seguirlo la memoria non può per capire questo bisogna notare che l'umano intelletto in questa vita a cagione dell'affinità naturale che ha con la sostanza intellettuale separata quando si eleva si eleva a tal punto che la memoria dopo il ritorno viene meno per aver essa trasceso il limite concesso all'uomo segue una serie di esempi biblici vetero e neotestamentari di uomini che superarono questo limite il primo e il più significativo di questi esempi essendo naturalmente quello di San Paolo che fu rapito al terzo cielo e vide i segreti di Dio che all'uomo non è permesso rivelare così la seconda lettera di Corinzi la Dante legge in realtà vidit in luogo del cioè questa è la versione che offre Dante che legge in realtà vidit in luogo dell'audivit che ha cioè udì che ha la vulgata continua poi Dante vide dunque il poeta cose che riferire non sa e non può ritornando di lì e si osservi attentamente il fatto che dice non sa e non può non sa perché se ne è dimenticato non può perché se ricorda e conserva la memoria del contenuto la lingua però viene meno per lo nostro sermone infatti attraverso il nostro intelletto vediamo molte cose per le quali mancano le espressioni verbali il che a sufficienza dimostra Platone nelle sue opere quando ci serve delle metafore metaforismi è il termine della lettera vide infatti attraverso la luce intellettuale molte cose che nel sermone proprio non poter esprimere qui cito ancora la traduzione di Giorgio Brugnoli perché la nuova traduzione di Claudia Villa nell'edizione dei meridiani delle opere di Dante dei meridiani recentemente uscita la traduzione di sermone proprio è inesatta è chiaramente inesatta perché l'espressione non significa con il proprio linguaggio come traduce Claudia Villa ma con il linguaggio proprio cioè contrapposto a quello figurato delle metafore cioè una contrapposizione tra il proprio e il figurato evidentemente se non si coglie questo aspetto non si capisce il senso di questa frase è abbastanza chiaro dunque in quale modo il problema dell'ineffabile della non esprimibilità di esperienze che cedono il limite umano si articoli qui con quello del linguaggio allegorico come ha osservato Maria Colombo che ha dedicato un libro molto importante a questo tema l'indicibile metafisico è recuperato alla lingua nella misura in cui vengano superate le angustie di un linguaggio quotidiano e naturale cioè del sermone proprio ma l'allegorismo cui Dante allude in questo passo non è certamente quello della tipologia cristiana basata sul rapporto storico tra antico e nuovo testamento al sermone proprio che non è in grado di esprimere le cose viste con la luce dell'intelletto vengono infatti contrapposti in metaforismi di Platone il riferimento a Platone è estremamente significativo i simboli e i miti platonici erano infatti considerati da tutta una corrente del pensiero medievale tra gli esempi più illustri di quella allegoria poetico filosofica che nasconde la verità sotto sotto un velo di belle menzogne a essi si riferisce per esempio Bernardo Silvestre autore che probabilmente conosceva nel prologo del suo commento a Marziano Capella anche Platone scrive Bernardo dopo aver parlato senza veli del mondo corporeo essendo arrivato all'anima dice in forma figurata che il numero ne è la materia e pur parlando esplicitamente delle stelle quando si accinge a parlare misticamente degli spiriti si volge all'involcro e dice che oceano e teti sono figli del cielo e della terra il riferimento è tanto più illuminante in quanto rappresenta una delle esemplificazioni adotte da Bernardo del concetto di integumentum che è nel suo lessico una delle due forme espressive dell'involucro involucrum l'altra è l'allegoria egli distingue dall'integumentum in termini esattamente corrispondenti alla distinzione dantesca fra allegoria dei teologi e allegoria dei poeti scrive infatti Bernardo Silvestri l'allegoria è una forma espressiva che in forma di narrazione storica cela una verità diversa da quella che si comprende esteriormente come per esempio la lotta di Giacobbe nel 32esimo dell'agenzia l'integumento invece è una forma espressiva che in forma di narrazione favolosa racchiude una verità comprensibile come per esempio a proposito di Orfeo la infatti una notizia storica e qui una favola tengono nascosto un mistero l'allegoria riguarda la pagina divina l'integumento la filosofia da una parte quindi l'allegoria il senso letterale è una storia dall'altra l'integumento è una fabula come appunto quella di Oceano e Teti evocata da Platone nel Timeo a proposito della creazione del mondo nel rivendicare il significato simbolico della narrazio fabulosa Bernardo si rifà a sua volta alle pagine iniziali del commento al sogno di Scipione di Macrobio dove lo scrittore latino difende dai detrattori insieme il mito platonico di Er e lo stesso sogno di Scipione nella sua complessa distinzione terminologica che qui non ricostruisco nei dettagli essi appartengono questi miti appunto appartengono a quella categoria di fabule che dice dice il Macrobio si basa su un solido fondo di verità ma questa verità si manifesta con mezzi fantastici e trovati immaginori per quedam composita et ficta questo si chiama racconto fabuloso narratio fabulosa non favole fine della citazione la distinzione di Macrobio che non prende in considerazione l'allegoria biblica non corrisponde dunque a quella di Marziano Capelli ma identica è nei due autori la nozione di narratio fabulosa e anche Macrobio porta gli esempi e lo cito dei riti sacri o dei racconti di Esiodo e di Orfeo dove si parla della discendenza e delle gesta degli dei in particolare Macrobio fa riferimento al mito di Er e al sogno di Scipione in essi scrive la scienza delle cose sacre viene enunciata sotto il velo devoto dell'allegoria sub Pio utilizzo la traduzione di Scarpa nella sua edizione in realtà il termine che usa Macrobio è sub Pio Figmentorum Velamine sotto il Pio velo delle finzioni ricoperta da fatti degni e rivestita da parole pure degne e questo è l'unico genere di fantasia di finzione figmenti genus che non può essere ammesso dal rispetto per le cose divine che è proprio che può essere ammesso dal rispetto per le cose divine che è proprio di chi fa professione di filosofia il mito di Er col quale si conclude la repubblica di Platone e che è qui considerato come esempio di fantasia di un figmentum che veicola una scienza sacra consiste e bene ricordarlo nel racconto di una discesa nell'ate come si sa nel corso della quale il protagonista può osservare i castighi inflitti alle anime dei morti uno dei precedenti classici diretti o indiretti del viaggio dantesco nell'oltrecombo e al possibile significato simbolico di un testo platonico proprio il timeo evocato da Bernardo Silvestre anche Dante allude nel quarto canto del paradiso spiegando al poeta perché le anime dei beati che in realtà dimorano tutte nell'Empire gli appaiano suddivise nei vari cieli Beatrice dichiara che così bisogna parlare a chi come l'uomo trae dai sensi tutte le proprie conoscenze non diversamente aggiunge fece la scrittura attribuendo mani e piedi a Dio sono i versi 40-45 così parlare conviensi al vostro ingegno però che solo da sensato apprende ciò che fa poscia di intelletto degno per questo la scrittura condescende a vostra facoltà e piedi e mano attribuisce a Dio e altro intende lo stesso procedimento continua Beatrice sembra usare anche Platone quando parla del destino delle anime nel Timeo apparentemente la sua dottrina non corrisponde a ciò che qui si vede dice cioè che si vede nel Paradiso ma è più probabile aggiunge che si debba interpretarla in senso allegorico quel che Timeo dell'anime argomenta non è simile a ciò che qui si vede però che come si dice par che senta dice che l'alma alla sua stella riede credendo quella quindi esser decisa quando natura per forma la diede e forse sua sentenza è d'altra guisa che la voce non suona ed esser cuote con intenzione da non esser terisa sono parole che riecheggiano chiaramente quelle con le quali Macrobio aveva difeso il mito di Erre e il sogno di Scipione contro coloro che ne irridevano il carattere favoloso giustamente Jean Pepin nel suo studio su Dante la tradizione dell'allegoria ha ricollegato questo passo al discorso dantesco sull'allegoria ma ne ha visto solo in parte le implicazioni ermeneutiche usando il verbo parlar così parlar conviensi al vostro ingegno per indicare il modo in cui le anime dei beati appaiono ripartite nei diversi cieli ed equiparando questa rappresentazione alle immagini antropomorfiche di cui si serve la Bibbia per rappresentare Dio Dante sembra voler ridurre l'architettura stessa del paradiso la forma della visione paradisiaca a una finzione letteraria che si adatta alla comprensione al linguaggio umano a una fabulosa narrazio che altro intende la cui sentenza come nel mito platonico è d'altra guisa che la voce non suona come ha osservato Peter Dronche per dare che cito per dare al paradiso una geografia e una ricchezza immaginaria pari a quelle dell'inferno del purgatorio Dante doveva assumere un integumentum come quello platonico facendo comparire anime diverse in sfere diverse l'architettura del paradiso dice sempre Dronche è un integumentum esattamente nello stesso senso in cui i platonici medievali lo concepivano a proposito del timeo fine della citazione ancor più decisa è la conclusione di John Freccero che commentando le parole di Beatrice a Dante sul modo in cui si deve parlare all'ingegno umano scrive e cito anche lui straordinaria implicazione delle parole di Beatrice è che l'intero paradiso almeno fino all'attraversamento del fiume di luce verso la fine del poema non ha alcuna esistenza neppure immaginaria oltre quella puramente metafora fine della citazione non basta perciò parlare di semplice allegoria l'allegoria in questione nel quarto canto del paradiso come quella a cui allure il passo dell'epistola can grande sulle metafore di Platone e che si lega quindi al tema dell'inefabilità non è l'allegoria tipologica cristiana ma quella dei poeti e dei filosofi che non ha nulla di storico ma è soltanto artificio del linguaggio pura metafora pura fizia ed è proprio questo il tipo di allegoria che si apre al discorso sull'inefabile cioè sulla natura assolutamente indicibile superiore a ogni espressione a ogni linguaggio del subiettum trattato l'allegoria che si situa su un piano puramente retorico e fictizio senza alcun referente storico rappresenta il limite estremo del linguaggio umano il diaframma più sottile che si frappone tra noi e le realtà supreme quel genere di espressione che fa segno di ciò che è propriamente inesprimibile che il riconoscimento della fondamentale ineffabilità della visione narrata della sua radicale alterità rispetto ai limiti di qualsiasi linguaggio anche di quello allegorico si innesti precisamente su una riflessione intorno all'allegoria dei poeti è quanto confermano i versi del primo canto del paradiso che fanno immediatamente seguito a quelli citati in precedenza e nei quali è descritto il rapimento estatico il trasumanar di Dante nella contemplazione di Beatrice versi notissimi naturalmente nel suo aspetto tal dentro mi fei qual si fe glauco nel gustar dell'erba che il fe consorto in mar degli altri dei rasumanar significar per verba non si poria però l'esemplo basti a cui esperienza grazie serva dietro questi versi si intravede ancora una volta in filigrana la dottrina esposta da Macrobio nella pagina già citata del commento al sogno di Scipione dopo aver difeso le narrazioni favolose mediante le quali i filosofi enunciano dottrine sacre sub pieo figmentorum velamine lo scritto infatti così prosegue si deve tuttavia sapere che i filosofi non ammettono elementi favolosi in ogni trattazione per quanto leciti essi siano ma sono soliti ricorrervi quando parlano dell'anima o delle potestà aeree ed etere o di tutti gli altri dei invece quando la trattazione osa sollevarsi al dio sommo e capo di tutti o alla mente nata e proveniente dal dio sommo non spingono per nulla fino in fondo l'elemento fittizio fabulosum ma se tentano di esprimere qualcosa su tali temi che trascenda non soltanto il linguaggio sermonem ma persino il pensiero cogitazione cogitazione umano ripiegano su similitudini ed esempi ad similitudines et exempla confusion però l'esemplo basti dice Dante per canto suo a proposito del trasumanare per rappresentare il suo trasumanare si accontenta di evocare l'esemplum di Glauco il mitico pescatore che dopo aver mangiato un'erba favolosa fu trasformato miracolosa fu trasformato in divinità marine in macrobio l'esemplum e la similitudine costituiscono il limite estremo del linguaggio che abbandonato anche il piano della fabula del figmentum tenta di esprimere qualcosa che trascenda come lui dice non soltanto il linguaggio ma persino il pensiero umano sono esattamente il ne sa ne può del verso 6 commentato nell'epistola can grande cioè il venir meno sia della memoria sia del linguaggio davanti all'eccesso della visione l'esemplum è l'ultima soglia di quel discorso figurato o metaforico di quella allegoria dei poeti che ha perfettamente coscienza del proprio essere puro artificio e pura finzione è l'ultimo sottile velame l'ultima vagina per usare un'immagine dantesca della quale come Marsia scorticato dal dio Apollo bisogna svestirsi per accedere alla contemplazione delle realtà più alte ma nello stesso tempo è questa anche la forma allegorica che consapevole della propria natura fittizia esprime nel modo più adeguato la sua inadeguatezza a rappresentare il formidabile subiettum della visione paradisiaca è perciò il luogo preciso in cui si pone il problema del limite invalicabile del linguaggio umano e si apre il discorso sull'inefabile anche se Dante mutua la sua distinzione tra allegoria dei teologi e allegoria dei poeti dalla tradizione filosofica di Bernardo Silvestre una distinzione simile era presente anche nell'esegesi biblica medievale certo come ha mostrato Henri de Lubac nella sua famosa opera sull'esegesi medievale con l'ausilio di un'imponente documentazione l'allegoria propriamente cristiana come si è già detto era quella tipologica cioè la profezia dell'incarnazione e della rivelazione di Cristo inclusa nella storia del popolo ebraico narrata nell'antico testamento quella che Auerbach ha descritto con il termine di figura in essa il rapporto allegorico si istituisce tra due eventi ugualmente reali uno appartenente all'ordine della legge l'altro all'ordine della grazia il secondo costituendo il compimento e l'inveramento si tratta dice proprio Ljubak di un'opposizione del tunc passato al nunc opposizione nella durata dice in pari tempo relazione fra segno e cosa significato ma relazione e questo è fondamentale necessaria e providenziale ciò che l'allegoria cristiana presuppone non è tanto un legame arbitrario tra un significante e un significato qualsiasi quanto invece il piano divino il piano della salvezza quando per primo in ambito cristiano San Paolo parlò di allegorumena cose dette in senso allegorico a proposito dei due figli di Abramo non intese affatto negarne la realtà Francesco ti sei zittito devi ripetere l'ultima frase scusami eri allegorumena eravamo allegorumena sì sì si è zittito da solo allegorumena adesso si sente sì dicevo quando per primo in ambito cristiano San Paolo parlò di allegorumena cioè cose dette in senso allegorico a proposito dei due figli di Abramo non intese affatto negarne la realtà storica ma solo affermarne la natura profetica non si tratta quindi di un semplice artificio verbale retorico Agostino lo afferma chiaramente nel De Trinitate quando l'Apostolo parla di allegoria dice non la individua nelle parole in verbis ma in un fatto in fatto nel fatto in cui mostra che i due figli di Abramo uno della schiava l'altro della donna libera non si trattava di parole ma anche di un fatto devono significare i due testamenti è qui abbozzata una distinzione fra allegoria in facto o in factis e allegoria in verbis o dicti cui Agostino accena anche altrove anche se non la formalizza mai in modo esplicito a teorizzarla esplicitamente sarà il venerabile Beda in un paragrafo dedicato all'allegoria nel suo breve trattato De Schematibus et Tropis bisogna notare afferma Beda che l'allegoria a volte è nei fatti a volte nelle parole soltanto aliquando fattis aliquando verbis tantum in modo fitto nei fatti dove è scritto Abramo ebbe due figli uno dalla schiava e l'altro dalla donna libera e sono i due testamenti come dice l'Aposte nelle parole soltanto nel capitolo nono di Isaia espunterà un pollone dalla radice di Iesse e un fiore dalla radice di lui si alzerà con la quale espressione si intende dire che il salvatore nascerà dalla stirpe di David per mezzo della Vergine Maria questo è il passo diciamo molto importante di Beda che formalizza questa distinzione perciò l'allegoria in verbis è solo un'immagine una metafora una somiglianza fittizia e contingente non un'affinità voluta da Dio come nel caso dell'allegoria in factis essa in fondo non si differenzia dall'allegoria pagana basata su fabule e finzioni perciò non vi è dubbio che la corrente di pensiero cristiano che ha in Agostino e in Beda due dei suoi esponenti maggiori teorici maggiori privilegia decisamente l'allegoria tipologica o figurale rispetto a quella puramente retorica pur amettendo anche la presenza di quest'ultima in alcuni passi della Sacra Scrittura se questa gerarchia non è ancora del tutto chiara in Agostino e in Beda come in altri autori che ne riprendono la terminologia essa trova una definitiva sistemazione teorica nella dottrina di San Tommaso il quale giunge addirittura a includere l'allegoria in verdis nel primo dei quattro sensi biblici il senso storico letterale per Tommaso si ha infatti senso allegorico o spirituale termine spirituale allegorico spirituale termini con il quale egli designa complessivamente i tre sovrasensi tradizionali cioè quelli non letterali non quello letterale o storico ma gli altri tre solo nel caso delle figure si ha senso allegorico o secondo il Santo Mio solo nel caso delle figure dei segni profetici iscritti da Dio nella storia sacra quale è narrata nella Bibbia figure che gli autori stessi non conoscevano egli considera infatti il senso letterale come quello che è inteso dall'autore inteso dall'autore qui ecco fa notare che la traduzione fornita da Giorgio Brugnoli del passo dell'epistola can grande relativa al senso letterale la traduzione è quello che si ha da quel che si volle significare con la lettera del testo da quello che si volle significare con la lettera del testo questa traduzione è inesatta dice ecco se Dante avesse inteso dire che il senso allegorico indica quel che si volle significare con la lettera del testo Dante sarebbe dice assai ortodossamente tomista perché parlerebbe di un significato parabolico inteso dall'autore che quindi potrebbe essere ridotto in termini tomisti al significato letterale pertanto l'epistola starebbe ancora parlando dell'allegoria dei poeti e non di quella dei teologi ma e questo è un cito ecco ma il testo latino recita alius est qui abetur per significata per litteram per significata per litteram e qui sembra proprio che Dante voglia parlare delle cose che sono significate delle cose che sono significate e quindi di un'allegoria in factis dice ecco anche Claudio Rilla non conosceva evidentemente questa giusta osservazione di eco e traduce allo stesso modo altro si ha dal senso che si vuol dare alla lettera sono entrambe traduzioni sbagliate si ha cioè secondo Tommaso senso spirituale solo nel caso dell'allegoria in factis pertanto le metafore e gli altri troppi presenti nella scrittura come nei testi poetici per esempio rientrano nel senso letterale essendo mezzi di significazione voluti da chi scrive le finzioni poetiche afferma Tommaso nella settima delle questiones quod libertales hanno il solo fine di significare e il loro significato non va al di là del senso letterale fine della citazione anche nella Bibbia vi sono metafore e finzioni di questo genere semplici allegorie in verbis che non hanno di per sé alcun senso spirituale scrive ancora in questa settima delle questiones quod libertales San Tommaso il capro o altre cose di questo genere mediante le quali sono designate da Cristo altre persone nelle scritture non erano delle cose reali ma delle similitudini immaginarie similitudini immaginarie mostrate al solo scopo di significare quelle persone pertanto quella espressione con la quale sono designati mediante tali similitudini determinati uomini o regni rientra unicamente nel senso storico non pertinent nisi ad istorico senso come ha osservato Armand Strubel che ha studiato specificamente questa distinzione tra allegoria in factis e in verbis ne risulta una radicale differenza di statuto tra l'allegoria in factis cioè la tipologia biblica e quella in verbis nella quale è compreso anche ogni genere di finzione si tratta scrive Strubel di una concezione totale e anzi totalitaria dice dell'interpretazione che lascia alla creazione letteraria solo uno spazio ridottissimo quello del senso letterale figurato ed esprime l'idea della superiorità assoluta dell'arte divina fine della citazione l'allegoria in verbis appare qui non soltanto sottovalutata rispetto a quella in factis come già in Beda in Agostino ma anche definitivamente esclusa dall'ambito dell'allegoria cristiana e relegata al rango di semplice ornamento retorico troppo artificio formale per parte sua Umberto Eco che in vari scritti prima ne ho citato uno ha analizzato accuratamente questa concezione tomista dell'allegoria si è interrogato anche sul suo rapporto con le idee espresse nell'epistola can grande e gli prende atto innanzitutto che ciò che Dante afferma a questo proposito nel convivio appare molto diverso da quello che dice se è sua nell'epistola mentre l'agli dichiarava di voler seguire l'allegoria dei poeti e non quella dei teologi qui applica alla commedia lo schema teologico del quadruplice senso della scrittura qui però essa è applicata a un testo poetico in aperta contraddizione a quanto pare con la dottrina tomista osserva Eco per risolvere il problema le risposte dice sono due se si assume che Dante era un tomista ortodosso non resta che negare l'autenticità dell'epistola ma egli osserva sarebbe curioso che tutti i primi commentatori ne abbiano seguito le indicazioni la seconda ipotesi più economica è che egli non fosse affatto un tomista ortodosso opinione del resto sostenuta dai maggiori specialisti di filosofia medievale che se ne sono occupati Curzius Nardi Gilson la conclusione sarebbe dunque che per Dante e lo cito la poesia abbia dignità filosofica e non solo la sua ma quella di tutti i grandi poeti come dimostrano vari esempi nella comedia nel convivio egli applicherebbe lo schema delle egesi biblica anche alla poesia antica e alla mitologia secondo il modello dell'allegoria dei poeti e considererebbe il suo poema come una vera e propria prosecuzione della sacra scrittura questo giudizio mi sembra pienamente condivisibile e fa luce su molti aspetti dell'opera dantesca ma rimane da chiarire un punto essenziale che ne è di quella che Dante chiama allegoria dei poeti e della sua opposizione all'allegoria dei teologi cioè nei termini dell'esegesi medievale della distinzione fra allegoria in verbis e in factis in realtà la dottrina che privilegia l'allegoria in factis come sola allegoria propriamente cristiana rappresenta soltanto la prospettiva dogmatica ufficiale per così dire del cristianesimo medievale quella più saldamente ancorata al magistero della chiesa il territorio speculativo che rimane in tal modo escluso è però vastissimo vi rientra infatti gran parte dell'agnosi cristiana ortodossa antica e medievale che ha seguito su alcuni punti cruciali della dottrina strade talora distinte anche se non sempre divergenti da quelle del dogmatismo ecclesiastico curano in particolare gli scritti areopagitici il corpus dello pseudo Dionigi areopagita a ispirare sul versante latino quella concezione mistica e quasi misterica del cristianesimo che troverà la sua prima grande espressione occidentale nell'opera di Giovanni Scotto e Riugena la posizione di Giovanni Scotto non è in questa materia cioè nella questione dell'allegoria infatti se in verbis per nulla assimilabile a quelle di Agostino o di Tommaso e per noi mi pare il grande interesse dei suoi scritti sta anche nel fatto che pur seguendo nella sostanza le dottrine di Dionigi e di altri padri greci egli le riformula in parte nella terminologia degli esegetti latini trasformandone in maniera eversiva il significato e facendovi affiorare i lineamenti di una diversa concezione del simbolismo sato l'ermeneutica e riugeniana presuppone lo sfondo dell'universo gerarchizzato di Dionigi e del neoplatonismo anche per Giovanni Scoto il cosmo non è che una sterminata manifestazione o rivelazione di Dio una teofania in esso Dio si esprime e si conosce in misura proporzionale al proprio rango ontologico ogni cosa è nella sua più intima essenza la conoscenza che Dio ha di se stesso e di se stesso offre all'uomo tutte le creature anche le più infime contengono perciò una traccia un'orma dell'essere sommo piuttosto che un rapporto di causa ed effetto fra di esse vige un rapporto di segno e cosa significato il significato assoluto essendo evidentemente Dio questo conferisce all'esegesi simbolica uno statuto di privilegio infatti in una tale prospettiva come ha osservato Etienne Gilson ogni cosa è essenzialmente un segno un simbolo in cui Dio si fa da noi conosce e le realtà intelligibili di cui tutte le cose sono i simboli corrispondono per Giovanni Scoto conformemente la tradizione platonica ai loro archetipi o modelli superiori alle idee creatrici che eternamente sussistono nel verbo e con esso in definitiva si identificano il fine dell'esegesi sarà perciò quello di ricondurre le realtà fisiche ai loro archetipi celesti di farle rientrare nel verbo che le ha proferite l'ermeneutica non fa perciò che anticipare sul piano dell'agnosi individuale quello che sarà il destino finale dell'universo secondo la visione di Giovanni Scoto il suo reditus in Dio il suo ritorno totale in Dio anche la Sacra Scrittura adotta questo modo per innalzarci fino alla teoria o contemplatio teologica che costituisce il grado supremo dell'interpretazione simbolica il simbolo simbolum con cui con cui Scoto traduce il simbolon di Dionigi assume quindi nella teologia di Giovanni Scoto un enorme valore conoscitivo in quanto è il mezzo con cui l'uomo può innalzarsi alla contemplazione delle realtà divine angeli e Dio ora nel commento nel suo frammentario non incompiuto commento al Vangelo di Giovanni egli contrappone esplicitamente la contemplazione mediante i simboli che ci innalza le più alte conoscenze spirituali alla tipologia biblica quale è teorizzata come abbiamo visto da tutto il pensiero cristiano medievare fino a San Tommaso e per formulare questa contrapposizione tra simbolo e tipologia allegoria tipologica si serve certo di proposito della terminologia agostiniana e vediana nel corso di una trattazione sui cinque pani e i due pesci del miracolo di Gesù e polemizzando apertamente con Agostino che cita Giovanni Scoto fa la seguente digressione teorica è un testo a mio avviso importantissimo prima di tutto dice dobbiamo chiederci quale differenza ci sia tra i misteri misteria termine che per lui è equivalente all'allegoria infantesi e i simboli vedremo poi perché propriamente i misteri sono quelli che ci si presentano sotto forma di un'allegoria dei fatti e del discorso dei fatti perché sono realmente accaduti e del discorso in quanto essi ci vengono narrati e questo tipo di segni visibili è giustamente chiamato dai santi padri allegoria dei fatti e del discorso vi è poi un altro tipo il cui nome è propriamente simbolo e che viene chiamato allegoria del discorso e non dei fatti perché consiste unicamente nei discorsi dell'insegnamento spirituale e non in fatti sensibili così i misteri nel vecchio come nel nuovo testamento sono fatti avvenuti nella storia secondum historiam facta sum e raccontati dalla lettera i simboli invece non sono fatti ma discorsi che narrano cose che non sono accadute come se fossero accadute non facta sed quasi facta unicamente in vista dell'insegnamento fine della citazione è chiaro che qui l'allegoria facti et dicti corrisponde esattamente all'allegoria in factis di Agostino e di Beda cioè l'allegoria tipologica lo conferma anche la citazione da parte di Giovanni Scoto fra gli altri esempi scritturistici che riporta dello stesso luogo della lettera ai Galati riportato da entrambi gli autori a illustrazione dell'allegoria in facti quanto all'allegoria dicti non autem fatti la sua definizione corrisponde formalmente all'allegoria dicti o inverdis in quanto non presuppone alcun fatto storico da interpretare e riguarda soltanto la dimensione linguistica metafore opi o finzioni ma a dispetto di tale corrispondenza essa viene a godere di fatto nella dottrina erigeniana di uno statuto gnoseologico assai più elevato di quello riconosciuto al primo tipo di allegoria tanto da sovvertire e anzi da rovesciare completamente la gerarchia delle modalità allegoriche stabilita nella tradizione principale dell'esegesi infatti l'identificazione dell'allegoria dicti con il simbolo simbolum dionisiano la associa immediatamente alla grande epopea ermeneutica e mistica descritta nel Perifuseon nell'opera principale di Scopio Origine l'esemplificazione adotta è ancora una volta eloquente mentre Beda come Agostino e Tommaso si limitava a citare quali esempi dell'allegoria in verbis alcune semplici metafore o similitudini riferite alla Vergine o a Cristo l'eriugena conclude la sua trattazione sul simbolum o allegoria dicti con un riferimento scritturistico di ben altra portata dottrinale e lucida facciamo un esempio di simbolo in principio era il verbo e il verbo era presso cioè l'inizio del Vangelo il verbo si tratta qui solamente di un discorso dice Scopio Origine che non ci fa conoscere alcun fatto storico hoc solum modo dictum in hoc nulla res gesta conoscitor esso deve perciò essere accolto tutto intero e senza divisione dagli uomini carnali deve esserlo tutto intero e senza divisione dagli uomini spirituali non si può spezzarlo perché non c'è nulla da intendere in modo storico secondo un historian ma tutto si riferisce alla teologia che cede ogni pensiero e ogni intelligenza totum at theologiam que omnem sensum et intellectum superat refer altro che semplice artificio o piega del senso letterale come vorrà Sant'Omario Giovanni Scoto introduce l'allegoria in verbis nel cuore stesso della rivelazione cristiana associandola alla dottrina giovanea del verbo non solo egli la mette in rapporto con il mistero più sublime del cristianesimo ma vi lascia anche trasparire quella che come si è visto è la meta finale del cammino ermeneutico e mistico dell'uomo il reditus come dice lo stesso Scoto alle cause primordiali di tutte le cose che il padre stabilì tutte insieme simultaneamente nel suo verbo questa identificazione dell'allegoria dictio in verbis al simbolo dionisiano ha delle implicazioni di assoluto rilievo per quanto per ciò che riguarda il ruolo della letteratura in quanto della letteratura in quanto tale proprio nella speculazione teologica nella dottrina eriugeniana il presupposto fondamentale e indubbiamente assai ardita di questa idea sta nella concezione più volte espressa da Scoto che le artes liberales e in particolare quelle più direttamente connesse alla letteratura grammatica e retorica non sono un semplice strumento espressivo di cui fa uso la sacra scrittura come altri testi al contrario è la scrittura a essere in qualche modo rinchiusa o compresa sono termini suoi entro i limiti delle arti liberali che costituiscono le regole immutabili ed eterne di ogni ragionamento e di ogni linguaggio sussistenti in un'unità nel nostro nus o mens cioè nel nostro organo spirituale più elevato specchio del verbo non si tratta cioè di artifici immaginati dall'uomo ma di limiti confini termini è il termine è la parola che lui usa di una sorta di struttura archetipale della nostra intelligenza creata ab eterno da Dio nel suo verbo in alcuni passi Giovanni Scoto sembra addirittura sostenere che non è il nus a produrre le artes ma le artes stesse sono all'origine del nus e il verbo è il luogo di confluenza e di unità di esse tutte le arti naturali cioè liberali scrive Giovanni Scoto concorrono a significare il Cristo in maniera simbolica arti nei limiti delle quali è inclusa la totalità della divina scrittura poiché non esiste alcun passo della scrittura dalla quale siano assenti le regole delle arti liberali fine della citazione lo stretto rapporto di somiglianza tra le arti liberali e il verbo Cristo che così si stabilisce conferma le decisive implicazioni che ha il prologo di Giovanni come esempio dell'allegoria d'ICTI e di conseguenza lo statuto elevatissimo che ha la letteratura in quanto tale nel sistema di Giovanni Scoto nelle sue cause eterne essa fornisce le chiavi stesse per l'interpretazione della sacra scrittura nel commento alla gerarchia celeste altra opera di Giovanni Scoto lo Scoto attribuisce esplicitamente questa dignità all'ars poetica alla fictia e devo citare anche questo passo così come l'arte della poesia ars poetica elabora mediante favole inventate o similitudini allegoriche per fictas fabulas allegoricasque similitudines un insegnamento morale o fisico per esercitare gli intelletti umani ed è precisamente ed è ciò che è proprio dei poeti epici che lodano in maniera figurata le gesta e i costumi degli eroi allo stesso modo la parola di Dio come una sorta di arte poetica veluti poedam poetica modella la sacra scrittura secondo immagini fictizie fictis imaginazionis per adattarla alla nostra intelligenza e innalzarla dai sensi corporei come da un'imperfetta condizione infantile fino alla perfetta conoscenza delle realtà intelligibili in rerum intelligibilium perfectam cognizionam quasi a una sorta di maturità dell'uomo interno qua si sentono quasi letteralmente le parole del paradiso di Dante le parole di allegoria in verbis come forma espressiva più alta delle realtà spirituali alle soglie di ciò che non è più esprimibile mediante il linguaggio sull'orlo dell'ineffabile fatto sta che qui possiamo osservare in uno dei più importanti e prestigiosi autori cristiani del medioevo una posizione diametralmente opposta a quella che sarà formulata da San Tommaso sul rapporto fra allegoria tipologica e allegoria verbale e di conseguenza il riconoscimento di ben altra dignità in linea di principio perfino superiore a quella della scrittura stessa all'ars poetic all'affizio alla letteratura Dante si colloca su questa linea di pensiero in lui come si è visto sono i metaforismi platonici o l'esemplo a far segno della suprema visione di quella visione che resta nella sua essenza indicibile con questo non voglio certo negare l'applicabilità alla commedia del modello allegorico dei quattro sensi illustrato nell'epistola Can Grande né rifiutare le interpretazioni figurali o tipologiche che su di esso si basano è chiaro che Dante nella sua ficzio ha voluto attribuire al senso letterale del suo poema il viaggio ultraterreno una storicità paragonabile a quella della sacra scrittura e perciò suscettibile di una analoga polisemia Umberto Eco lo ha visto molto bene ma tale modello ermeneutico ha validità solo nei limiti per usare la terminologia eriugeniana dell'affizio di una narrazione che non può comunque uscire dai confini del linguaggio e della letteratura carattere essenziale della visio dantesca è invece la sua irriducibilità al linguaggio e alla stessa intelligenza umana il suo collocarsi in una dimensione che nessuna allegoria neppure alcuna allegoria potrebbe mai esprimere e questo limite della forma allegorica questa sua costitutiva insufficienza a significare il trascendente che è poi quella del linguaggio si rivelano non tanto nell'allegoria teologica che rinvia semplicemente da un ordine di significati a un altro parimenti e fabile ma proprio in quella retorica e poetica che implicando di per se stessa la sua natura puramente linguistica la sua natura di pura fabula non può che segnare una frattura abissale tra espressione e oggetto del discorso tra forma trattandi e subiettivi e perciò questa seconda forma di allegoria a condurre verso il superamento dello stesso discorso allegorico che si realizza nei momenti più astratti e sublimi del paradiso e che ha la sua illustrazione teorica nella parte finale dell'episte quindi quell'allegoria dei poeti che dopo il convivio sembrava sparita dall'orizzonte letterario dantesco a beneficio dell'allegoria dei teologi si rivela insomma come il grado conoscitivamente più elevato del linguaggio umano nonché ridursi a una semplice varietà o increspatura del sensus literalis come voleva Sant'Ommaso essa diventa nella prospettiva dantesca sulla scia della speculazione platonica ed eriugeniana la cornice stessa entro la quale si dispone la stratificazione dei sensi allegorici e il luogo in cui si dice si manifesta apertamente la loro insufficienza espressiva il luogo in cui la fictia si dichiara come fictia ciò non significa che la divina visione della commedia si degradi al rango di una semplice invenzione poetica di una favola immaginaria che avrebbe in se stessa il proprio senso e il proprio fine non si tratta di una riduzione della teologia alla poesia ma di una promozione della poesia a teologie proprio perché dichiara la propria insufficienza e la propria inadeguatezza a dire le realtà divine l'allegoria poetica di Dante come l'allegoria dicti o il simbolum di Giovanni Scoto contiene una verità cui la tipologia non può in alcun modo aspirare risalendo più indietro nel tempo essa si avvicina al mito platonico a quei metaforismi e a quei racconti la cui sentenza è d'altra guisa che la voce non suona e i quali lo stesso Dante appunto come si è visto allude esplicitamente e io avrei concluso qui e vi ringrazio di essere grazie grazie a Francesco Zambon per questa magnifica relazione questa lezione magistrale passo la parola immediatamente a Diego Quaglioni per lasciare a lui tutto il tempo che insomma che abbiamo e sulla metafora del sole e della luna devo presentare brevemente siccome mi è stato rimproverato da 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 me sì che ho fatto qualcosa di troppo troppo lungo e allora mi ero un attimo fermata a non leggere quello che avevo preparato giustissimo e quindi dico semplicemente che insomma è chiaramente ordinario di storia del diritto medievale nella facoltà che ci ospita che è quella di Trento ha tenuto cicli di vario di varia genere all'università di Parigi Francoforte Saldisburgo Lione non aggiungo altro se no mi rimproverano ma dovrei dire anche Stati Uniti e Cina va bene faccio finta di non dirlo è uno dei maggiori conoscitori di Bartolo da Sassoferrato che abbiamo oggi tra gli studiosi insomma ha tante di quelle pubblicazioni che ora non le cito le andate a guardare così facciamo facciamo prima e una cosa però la cito tra tutte le pubblicazioni importanti l'edizione della monarchia che è uscita nel 2014 che appunto è una edizione importantissima per una serie di ragioni tra cui quella che fa uso di un codice l'editional 6891 che viene preso in esame per anche per ridatare in modo sicuro quest'opera e quindi ricostruire proprio la storia anche del pensiero politico di Dante passo ora direttamente a lui la parola grazie grazie claudia il luogo lantesco che ho scelto come oggetto di questa conversazione è notissimo ed è uno dei dei più frequentati dalla critica e per certi versi anche dei più controversi è il luogo in cui Dante per così dire lotta corpo a corpo con la tesi della dipendenza della potestà temporale dall'autorità spirituale la tesi si basa principalmente sulla metafora del sole e della luna o per meglio dire esprime l'interpretazione in senso metaforico di un luogo scritturale come Genesi 1 16 18 i duo magna luminaria insomma che figurerebbero i due poteri universali cooperanti a rischiarare la via della salvezza genere umano in una relazione in cui la maioritas del potere spirituale sul temporale sarebbe resa evidente dal carattere riflesso della luce della luna premessa una lunga tirata contro gli ostinati e ciechi avversari della verità e dopo uno stringente certamen la parola è nel testo dantesco un certamen attorno agli argomenti tratti dalla sacra scrittura e che cito in traduzione mostrano almeno di avere un qualche indizio di ragione monarchia 3 4 1 Dante nega inizialmente che i duo luminaria della Genesi possano figurare allegoricamente i duo regimina questi sono infatti rimedi che Dio non può avere istituito prima della caduta dell'uomo perché avrebbe istituito il rimedio prima del male quindi mostrata la logica difettiva degli avversari Dante segue infine la via di una più mite critica per distinzione abbandonando quella più radicale per interinzione e offrendo una conclusione che a molti è parsa di sapore controverso dal controverso sapore conciliativo in monarchia terzo libro terzo capitolo quarto paragrafo 20 sic ergo dico quod regimen temporale non recipit esse a spirituali nec virtutem que est eius autoritas nec etiam operazionem simpliciter sed bene abeo recipit ut virtuosius operetur per lucem grazie quam in cielo et in terra benedizio summi pontificis infundi illi in cielo et in terra benedizio summi pontificis cioè nella traduzione che io ne ho dato a suo tempo affermo che il regime temporale non riceve l'essere dallo spirituale nella virtù che è la sua autorità e nemmeno l'operare puro e semplice bensì riceve da esso ciò che serve ad operare più virtuosamente io a suo tempo ho preferito tradurre più virtuosamente per restare fedele alla lettera che ha il senso del resto dantesco che a me paiono traditi nel momento in cui si traduce come spesso si è fatto il virtuosius con più efficacemente o più effettualmente o con traduzioni più virtuosamente mediante la luce della grazia che in cielo e in terra gli infonde la benedizione del sommo pontifici ora questo testo noi lo leggiamo in questo modo lo leggiamo di nuovo in questo modo dopo a partire dal 1965 dal centenario e dalla data dell'edizione di Pier Giorgio Ricci dopo che per una cinquantina d'anni dopo l'edizione Rostagno del 1921 questo testo lo si leggeva in un modo diverso ma su questo desidero tornare su questo punto desidero tornare più ampiamente più avanti ora che cosa che cosa dire del rapporto di Dante con l'interpretazione allegorica dopo quello che abbiamo appena sentito dopo la lezione dotissima splendida di Francesco Zamboni il discorso è veramente complesso al lettore ingenuo forse anche un po' rozzo potrebbe apparire che Dante non abbia avuto una particolare simpatia per i teologi per il loro uso più per il loro abuso che per il loro uso del senso metaforico nell'interpretazione delle sacre scritture sono cose di cui parlerà più avanti Clavia di Fonzo non parlo tanto del convivio e della distinzione che tuttavia è importantissima e dalla quale appunto occorre partire ma parlo appunto della monarchia dove giusto ad introduzione del luogo che vorrei commentare con l'autorità del doctrina cristiana di Agostino sono appunto censurate le deviazioni dal retto intendimento della pagina sacra e se si volesse per un momento esagerare e se fosse lecito anche allo storico di quando in quando esercitare un poco di fantasia cosa che normalmente gli è negata e probabilmente a buon diritto gli è negata piacerebbe dare ragione a chi in passato ha immaginato Dante e Marsilio da Padova insieme a Colloquio nel Vigo degli Strami e accanto a loro magari porre volentieri Niccolò di Lira che si raddottorava a Parigi nello stesso tempo in cui si dice che anche Dante vi sia stato naturalmente non sappiamo se Dante abbia mai avuto notizia dell'esegesi dell'Irano le cui postille letterale datano all'anno successivo alla morte del poeta ma certo la preferenza data al senso storico e morale nell'interpretazione della scrittura avvicina Dante a Niccolò suo contemporaneo e di poco più giovane di lui più di quanto non avvicini la dottrina conciliatrice di Dante alla più radicale teoria di Marsilio naturalmente questa è solo una una butade non non credo che si possa concretamente immaginare un un rapporto di questo tipo tuttavia non c'è solo la metafora dei dei teologi c'è c'è l'uso del senso metaforico nei giuristi nei giuristi in generale Dante usa la parola iurista iuriste in un luogo famoso della monarchia nel libro secondo nel capitolo 9 paragrafi 19 e 20 dove c'è quell'invettiva forse fin troppo nota e ricalcata sui sui giuristi che dovrebbero tacere e limitarsi al al census legis è una è un'invettiva che probabilmente coinvolge insieme civilisti e canonisti e che io ho cercato anche di spiegare una volta pensando che quell'invettiva sia legata soprattutto ad Accursio e ai glossatori civilisti che in qualche loro luogo eminente sono giunti a negare che l'impero discendesse immediatamente da Dio parlando di fortuna per esempio come fa Accursio in un luogo citato da Dante poco prima di questa invettiva probabilmente Dante ha presente un abuso del linguaggio figurato da parte dei giuristi intenti alla costruzione delle loro finzioni prima si faceva cenno nella lezione di Francesco Zambon alla parabola al racconto biblico della moltiplicazione dei panni e dei pesci c'è un luogo forse non molto conosciuto della letteratura giuridica trecentesca opera appunto di un giurista dantista potremmo dire come Bartolo dantista per ispirazione ma anche perché allievo vicino e quindi allievo dell'amico per eccellenza di Dante ma insomma c'è un luogo in cui Bartolo dice in uno dei suoi sermoni dottorali che i cinque volumi del Corpus Iuris Giustinianeo i tre volumi dei Digesti il Vetus l'Inforziatum il Novum il Codice con i suoi nove libri e il volume in Parvum con tutto il resto i tre libri le istituzioni le autentiche sono come i cinque pani e i due pesci sono i due sensi perché Bartolo riduce i sensi a due il senso letterale e poi gli altri li pone tutti insieme in un sensus argumentalis in un senso figurato e arriva a dire che per quei cinque pani e quei due pesci per quei cinque libri e per i due sensi usati nella interpretazione della ratio scripta in corpore iuris totus mundus saturatum totus mundus saturatum un modo un modo retoricamente forse efficace in un sermone dottorale per per elogiare insomma grado la civilistica la civilistica la sua civilistica che forse può dirci qualcosa ecco anche dell'abuso del del linguaggio figurato nei giuristi della generazione successiva a Dante certamente Dante non nutriva simpatia per l'altra categoria ecco i giuristi per i canonisti non per tutti il suo la sua devozione direi per Graziano per il decretum e per i decretisti è palese è tantissima non occorre non occorre farne parola certamente lo stesso non si può dire per i decretalisti e per l'esasperato uso delle decretali come come base fondamentale per per un sapere che evidentemente Dante vedeva estremamente circoscritto alla alla produzione decretalistica e alla sua interpretazione dunque i decretalisti i decretalisti teologe ac filosofie cui uslibet inci et expertes come si dice appunto nel libro terzo della monarchia o se dobbiamo credere ad una variante conservata in alcuni codici i codici del gruppo beta 2 così disprezzato da Ricci e anche da Pruscio di conseguenza e che spesso conservano lezioni che molto probabilmente sono lezioni genuine almeno a mio giudizio ecco se dobbiamo credere ad una variante conservata in alcuni codici teologia che filosofie cunabolis inci et expertes insomma non solo ignoranti ignari digiuni al tutto di teologia di filosofia ma insomma ignari e digiuni persino delle basi più elementari della teologia e della filosofia e naturalmente tutti intenti a togliere autorità all'impero come si dice in monarchia terzo 3 9 e l'oggetto principale il principale oggetto polemico di Dante è come si sa la famosa decretale solite di innocenzo terzo inserita sotto il titolo de maioritate et obbedienzia nella compilazio terzia del 1210 e quindi poi nel 1234 nel libera extra di di d'Odorio nono la raccolta ufficiale destinata a sostituire le compilazioni precedenti innocenzo terzo vi paragona l'autorità pontificia e la potestà regale al sole e alla luna i duo magna luminaria scrivendo che l'imperatore avrebbe dovuto sapere che i due grandi astri furono posti da dio in firmamento cieli il sole per presiedere al giorno e la luna per presiedere la notte l'uno però maggiore dell'altro i due astri posti da dio nel firmamento firmamento simbolo della chiesa universale sono le due dignità contificia e regale l'una maggiore in quanto istituita per presiedere allo spirituale l'altra minore in quanto destinata a reggere nel temporale minore la cui misura di grandezza è esattamente quella che passa tra il sole e la luna nel testo della decretale si legge appunto quanta est inter solem et lunam quanta in tal modo la metafora ecclesiologica dei due luminaria si sostituiva a quella più risalente quella dell'oro e del piombo derivata da ambrogio dal delignitate sacerdotali e passata nel canone gelasiano accolto nel decretum e il canone dieci della distinzione novantaseiesima dove la glossa di Giovanni Teutonico la glossa ordinaria al decretum pur operando una concordanza con la novella giustinianea comodo o porte ad episcopos luogo celebre dove si afferma solennemente la comune origine adeo della potestà imperiale e del ministero sacerdotale stabilisce un diretto collegamento con la decretale solite la glossa dice e la glossa fulgoren dice et quanta est differenzia inter sole met lunam tanta est differenzia inter imperium et sacerdotium dunque quanta tanta la metafora innocenziana ha la sua base in una già consolidata tradizione esegetica intorno a Genesi 1-7 dove la creazione del firmamentum è intesa come originaria costituzione dell'ecclesia ed era destinata a produrre implicazioni nuove nella letteratura canonistica propensa a scientizzare per così dire l'argumentum del rapporto di grandezza tra la pontificalis autoritas e la regalis potestas munendolo di un'interpretazione matematico-astrologica così è per esempio nell'apparato al libera extra opera di in varie redazioni di Bernardo da Parma che interpretando la decretale solite dopo aver richiamato ad ogni buon conto come luogo parallelo il canone gelasiano offre nella glossa intersole met lunam una spiegazione naturalistica per la quale la differenza tra il Papa e l'imperatore è tanta quanta est intersole met lunam e cioè di 56 volte essendo la Terra sette volte maggiore della Luna e il Sole otto volte maggiore della Terra con Terra sit septies maior luna sol out e mocties maior terra ho osservato da qualche altra parte che la canonistica duecentesca sembra ricorrere all'ordo nature quasi il solo ordo scritture non basti a sorreggere la teoria della supremazia pontifica già prima di Bernardo da Parma un altro canonista Lorenzo Ispano che insegnò diritto canonico a Bologna sicuramente tra il 1210 e il 1214 aveva glossato il luogo innocenziano allegando l'almagesto di Tolomeo come base scientifica di questa interpretazione e poco oltre la metà del 200 l'ostiense Enrico da Susa perfezionò l'argomento nella sua Summa sulla di Cretali un'opera che abbia un successo enorme diventando insomma il vademecum dei canonisti come come le Summe azzoniane lo erano per i civilisti la maggiore complessità della sua dottrina è un fatto riconosciuto tanto che l'ostiense è apparso rispetto alla tradizione precedente come più fedele al pensiero gelasiano e l'ostiense nel confermare la distinzione delle due potestà nella loro comune origine da Dio e qua afferma però la superiorità della spirituale in quanto essa è più prossima a Dio Magis Deo Appropinquatur e conclude che perciò si deve intendere che tra le due autorità non c'è molta differenza lo Stenze dice che non mutum discrepant quanto al loro principio ecco sed mutum discrepant quo ad majoritate il problema è sempre la majoritas a mezzo il duecento dunque questa è la la dottrina esattamente dominante per quanto per dimostrare quanta sia la differenza tra l'autoritas pontificia e la potestas imperiale lo Stenze introduce il paragone del sole della luna interpretando la decretale solita in modo tale da superare anche difficoltà di carattere esegetico e dice quanta est differenza inter sole met l'unam tanta est inter sacerdotalem et regalem dignitatem que verba licet per doctores diversimode exponantur benché queste parole siano esposte in modo diverso dai dai dottori tutt'amen dic cod sicut luna recepit claritate ma sole non sola luna sic regalis potestas recepit autoritate a sacerdotali non e contra sicut etsiam sole illuminat mundum per luna quando per sé non potest scilicet de nocte sic sacerdotalis dignitas clarificat mundum per regalen quando per sé non potest scilicer ubi agitor devindicta sanguinis dove si tratta della giustizia alta della giustizia penale quella che esige lo spargimento di sangue che la chiesa non può permettersi e che dunque affida al potere temporale perché ecclesia non sitit sanguinem concludendo che perciò il diritto canonico deve prevalere sul secolare l'ex secularis debet servire canonice lo stiense si espone lo stiense si espone ad litteram il luogo tolemaico discutendo nelle proposizioni e confermandole razione ordinis scritture razione subiecti e razione naturale nonché con le autorità più sante cioè con le autorità di ambrogio del canone di olasiano e giungendo così ad una affermazione che è questa che la dignità sacerdotale oltrepassa di più di 7.644 volte la dignità regale septies millies et sextcenties et quadragesies quater et insuper eius medietatem est maior sacerdotalis dignitas quam regalis Polomeo infatti dimostra che il sole contiene la terra 177 volte così come il sole contiene la luna 7.644 volte e mezzo e che infine la terra contiene la luna più di 39 volte ciò che insomma uius maioritas comprobate perciò quam vis jurisdicciones sinte distincte per quanto le jurisdicciones siano distinte quo ad execuzione tuttavia l'imperatore tiene l'impero ab ecclesia romana lo riceve dalla chiesa romana e dunque il papa è superiore ergo quo ad majoritatem unum caput est tantum c'è un solo capo scilicet papa nam unus debbet tantum esse caput nostrum dominus spiritualium et temporalium uno solo è il signore nelle cose spirituali e temporali e questo dominus naturalmente è riferito al papa è un'espressione che Dante ricalcherà infine in fondo alla monarchia proprio nella chiusa della monarchia ma certamente non riferendola al pontefice ma alla divinità a Dio stesso come unico governato in tutte le cose temporali e spirituali insomma l'ecclesiologia duecentesca di ambito canonistico inserisce l'autorità tolemaica in una fitta trama di appigli autoritativi dando alla dottrina prevalente quella particolare coloritura per la quale Dante nella sua polemica anticurialista sceglie lo stiense come simbolo del diritto canonico non ha bisogno di essere ricordata l'insistenza di Dante nella polemica contro l'ostiense sia nel dodicesimo del paradiso più ancora nell'epistola ai cardinali italiani su Roma nunc utroque lumine destituta e nella stessa accusa rivolta genericamente ai decretalisti nella monarchia lo stesso tentativo dantesco di confutare in modo più mite con una certa tolleranza l'errore in verità Dante scrive mendacium e devo dire anch'io qui faccio un'autocritica mi sono lasciato trascinare dalla dall'argomentazione in questo caso di Ricci che non sopportava che si fosse che soprattutto Vitte avesse dato ragione afficino che parla di bugia in questo caso non di errore ma in realtà qui si tratta proprio di qualcosa di simile a quanto Dante dice appunto nel nel convivio a proposito delle fabule no mendacium poco prima ha parlato di error e di errores in questo caso parla invece proprio di mendacium e dice che questo mendacium può essere può essere tolto ecco in qualche modo se anziché agendo per interimzione come dicevo si prova a confutare la falsa tesi degli avversari per distinzione introducendo una distinzione e salvando quella verità parziale contenuta nelle loro affermazioni cioè togliendo di mezzo un falso specifico una bugia appunto un mendacium dunque togliendo questo mendacium con una certa tolleranza e ricorrendo ad argomentazioni naturalistiche perché dopo aver confutato per interimzione l'idea che i due luminari significhino tipice allegoricamente i due regimi rivela l'intenzione di rispondere all'uso spregiudicato dell'almagesto da parte dell'ostiense nella sua affermazione della supremazia della giurisdizione ecclesiastica sul potere temporale ammettendo un un ragionamento di tipo naturalistico mi limito a riassumere in traduzione perché Dante scrive che questo mendacium può essere confutato mediante una distinzione perché la soluzione per distinzione è più mite rispetto all'avversario non appare infatti affermare del tutto il falso come la precedente confutazione invece lo mostra e prosegue dicendo che affermo dunque che sebbene la luna non abbia luce in abbondanza se non la riceve dal sole non perciò segue che la luna stessa dipenda dal sole per cui bisogna sapere che una cosa è l'essere della luna stessa e altra cosa è la sua virtù e altra cosa ancora è il suo operare per quanto riguarda l'essere in nessun modo la luna dipende dal sole e nemmeno per quanto riguarda la virtù né per quanto riguarda l'operare puro e semplice perché il suo moto è un moto proprio e la sua influenza proviene dai propri raggi ha infatti per sé alquanta luce come manifesto nella sua epissi ma quanto all'operare meglio e più virtuosamente riceve qualcosa dal sole che ha luce abbondante ricevuta la quale compie le sue operazioni con maggior virtù così dunque affermo che il regime temporale non riceve l'essere dallo spirituale né la virtù e la sua autorità e nemmeno l'operare puro e semplice bensì riceve da esso ciò che serve ad operare più virtuosamente mediante la luce della grazia che in cielo e in terra gli infonde la benedizione del suo onno pontefice ecco siamo tornati al passo dal quale ho preso le mosse che dire bisogna dire come è stato detto dagli interpreti più autorevoli che Dante ammette qui un principio di maggior funzionalità del potere secolare per via della grazia impetrata dal pontefice ma questa affermazione dà adito ad un problema al problema circa il carattere per così dire conciliativo della sua confutazione e della dichiarazione finale sulla quale gli interpreti si sono divisi con implicazioni che riguardano aspetti di natura strettamente filologica la soluzione dantesca è apparsa come un tentativo di mediazione per esempio tra le due posizioni estreme quella di Giovanni da Parigi di cui credo parlerà anche Claudia di Fonzo più avanti è quella di un Giacomo da Viterno ecco tanto per estremizzare tanto per estremizzare la tesi della influenzia propria della luna usata forse da Dante forse appunto contro l'interpretazione matematico astrologica impiegata dalla decretalistica duecentesca anche quella era stata già esposta in qualche modo da Giovanni da Parigi nel De Regia Potestate et Papali per infirmare l'argomento dei due luminari perché Jean Chidor diceva dice l'una non illuminet noctem nisi lumine quodacipita a sole tamen l'una abet virtutem propria adeos i bidatam quam a sole non abet eccetera noi naturalmente non sappiamo se Dante credesse a questa che è stata intesa da molti critici come una curiosa teoria fondata sull'osservazione della luce debolissima che si scorge nelle eclissi lunari quel che sappiamo è che a conclusione della sua confutazione egli denuncia il paralogismo dell'argomento degli avversari in monarchia 3 4 21 22 dove dice che l'argomento era errato nella forma errato nella forma perché perché sillogismo difettivo perché il predicato nella conclusione non è lo stesso della premessa maggiore come palese procede infatti a questo modo la luna riceve la luce dal sole che è il regime spirituale il regime temporale e la luna dunque il regime temporale riceve l'autorità dal regime spirituale infatti nella premessa maggiore pongono la luce nel predicato della conclusione invece l'autorità e sono cose diverse per soggetto e ragione come si è veduto dunque l'introduzione di un ulteriore termine rende falso il sillogismo degli avversari io penso che forse Dante aveva bisogno di contrastare la tesi della decretalistica più influente appunto ben rappresentata dal commento dell'Ostiense alla decretale solite che si fondava su argomenti autorità di ambito matematico astrologico già che non si trattava solo come pure è stato detto in passato di una specie di coquetri di predicatori e di teologi ma di una dottrina astrologica assai diffusa il punto controverso riguarda però l'affermazione che precede la dichiarazione dantesca circa la scoperta di un vizio di forma nell'argomento degli avversari che cioè come la luna riceve dal sole qualcosa che le consente di compiere le sue operazioni con maggior virtù così il regime temporale riceve dallo spirituale ciò che serve ad operare più virtuosamente mediante la luce della grazia che in cielo e in terra gli infonde la benedizione del sommo pontefice ut virtuosius operetur per luce e grazie quam in cielo et in terra benedizio summe pontificis infundit illi il luogo ha dato vita ad una lunga disputa tra gli editori moderni e i moderni interpreti e traduttori della monarchia benché benché non sia parso strano questo passaggio in cui si parla della benedizione pontificia che produce i suoi effetti in cielo e in terra benché non sia parso strano per esempio ai primi ai primi editori ai primi editori protestanti che pure computavano Dante tra i test sveritatis in qualche volta non parlo è strano stampare il testo appena citato in cui l'efficacia della benedizione papale opera tra cielo e terra non parlo è strano nemmeno agli antichi volgarizzatori come Marsilio Ficino o l'anonimo fiorentino Marsilio traduce per lo lume della grazia il quale è in cielo e in terra gli infonde la benedizione del pontificio Ricci appunto editore della monarchia nel centenario del 1965 giudicò come suo solito insomma in modo ironico e tranciante l'intervento operato sul testo da Rostagno nell'edizione del 1921 perché Rostagno introdusse nel testo un Deus che avrebbe salvato la coerenza del testo dantesco quindi non la benedizione del pontefice che opera efficacemente in cielo e in terra ma la benedizione che Dio in cielo e il pontefice in terra offrono al potere temporale perché possa più virtuosamente operare Ricci era sprezzante nei confronti della lezione introdotta da da Rostagno io penso che abbia scritto anche con un certo semplicismo ma insomma rinviando anche a luoghi paralleli come la conclusione stessa della monarchia rinviando giustamente monarchia terzo quindici diciotto ut luce paterne grazie illustratus virtuosius orbem terre irradiet dante ritorna sull'idea della grazia paterna della grazia del papa pater patrum ma anche nell'epistola quinta dove si parla della luce dell'apostolica benedizione che illumina l'imperatore della della luce del successore di pietro che illumina sono luoghi ricci scrive scrive così lasciandosi guidare dal più umile buonsenso parve al rostagno che la benedizione del papa potesse avere efficacia sulla terra in cielo invece soltanto quella di dio e perciò fece scrivere nella prefazione al testo critico del centenario che la mancanza di deus dopo in cielo era evidente ma il rostagno sbagliava di grosso aveva dimenticato le parole di cristo a pietro riferite dal vangelo di san matteo e da dante medesimo ricordate nella monarchia terzo otto uno podcunque ligaveris superterram erit ligatum et incelis del resto il voler distinguere tra dio e pontefice tra cielo e terra è proprio una sciocchezza la grazia gratis data che si risolve nell'operatio virtutum viene infusa immediatamente soltanto da dio come è ovvio e se dante dice che viene infusa dal papa evidentemente sottintende che i poteri che quest'ultimo che quest'ultimo ha li ha ricevuti da dio un passaggio molto molto sprezzante ma anche non privo di qualche ingenuità il richiamo al podcunque ligaveris è un richiamo abbastanza imprudente proprio perché nel libro terzo della monarchia Dante discute a lungo sul podcunque munendolo di forti limiti il podcunque non vuol dire qualsiasi cosa Dante circoscrive o tenta di circoscrivere questa espressione ad un ambito specifico dell'intervento della autorità spirituale cioè qualsiasi cosa nell'ambito spirituale il papa faccia o dica vale tanto in terra quanto in cielo ed è anche il caso se si vuole della benedizione certamente questo non lo autorizza a sospendere le leggi dell'impero ecco per esempio insomma Rostagno dopo in cielo integrò il testo inserendovi la parola Deus la cui assenza era dichiarata evidente nella prefazione affidata a Michele Bar la ragione di questa di questo pesante intervento non giustificato da alcun testimone della tradizione del testo dell'amarchia era riposta nel bisogno di rimediare a quella che appariva come una grave incongruenza dottrinale cioè di attribuire alla benedizione papale un'efficacia insieme terrene e celeste si potrebbe forse dire che in un panorama scientifico e culturale ancora saldamente post-ottocentesco e post-risorgimentale si trattava del rifiuto di riconoscere in Dante la presenza di un'ammissione ideologicamente vicina a quella della incondizionata potesta sclavio oggetto di una critica radicale nel trattato se si potesse fare una battuta si potrebbe dire che Barbie e Rostagno si dimostravano forse in questo luogo più dantisti di Dante correggendone il testo e il pensiero in modo tale da ottenere una coerenza dottrinale con l'immagine dell'oppositore radicale senza tentennamenti della tesi ierocratica della dipendenza del potere temporale dallo spirituale il resto appartiene alla storia della critica dantesca del novecento da Nardi a Michele Maccarrone a Uvidio Capitani per citare solo i principali interlocutori di un dibattito non ancora esaurito puntuale e severa fu la censura di Nardi che parlò di una strana interpretazione eppur riproducendo nel 79 il testo dell'edizione Ricci nella traduzione posta a fronte sposò la lezione proposta da Rostagno per la luce della grazia che in cielo gli infonde Dio e in terra la benedizione sono contefice la stessa operazione era stata compiuta da Pesard che aveva tradotto in questo modo per la lumière della grâce che verse en lui Dio même dans le ciel e la benediction du sovereign pontif sur terre anche Pesard aveva giustificato la scelta contraria alla lezione adottata da Ricci in quanto essa porta a delle conclusioni dottrinali gravi attribuendo al Papa dei poteri che Dante avrebbe giudicato senza dubbio esorbitanti nessun dubbio naturalmente aveva avuto Gustavo Vinay nella sua edizione traduzione commentata della monarchia del 1950 che viene tuttora ristampata ecco certamente è un monumento nella storia della storiografia insomma nel riprodurre il testo edito da Rostagno e nel tradurre con la medesima torsione del testo così io dico dunque che il potere temporale non riceve il proprio essere dello spirituale nella virtù che la sua autorità e neppure in assoluto l'operazione ma ne riceve la capacità di operare con efficacia maggiore per mezzo della luce della grazia che Dio gli infonde nel cielo e la benedizione del sommo pontefice intero ciò non impediva a Vinay di allegare nel suo commento un passo parallelo quello dell'epistola quinta che avrebbe dovuto consigliare maggior prudenza già che Dante vi afferma l'efficacia della benedizione apostolica facendo uso della metafora dei due luminari aperite oculos mentis vestre ac videte conian regia nobis cedie terre domino sordinavit ic esque quem Petrus dei vicarius onorificare nos monet quem clemens nunc Petri successor luce apostolice benedizione si illuminat ut ubi radius spiritualis non sufficit ibi splendor minoris luminalis illustret aprite gli occhi nella vostra mente riconoscete che eccetera si ricorderanno infine qui le note particolarmente critiche di capitani cui il congetturale Deus introdotto da Rostagno parve virgolette proprio necessario preoccupato com'era soprattutto di affermare che lut virtuosius operetur del testo dantesco doveva essere inteso come virgolette un avverbio senza contenuti giurisdizionali di sorta cosa che del resto parrebbe del tutto evidente comunque stiano le cose il pensiero di Dante sembra lontano dal radicalismo di un luogo della lettura codicis del suo amico Cino da Pistoia si tratta del commento scritto a Bologna tra il 1312 e 1314 contemporaneamente o quasi alla data più probabile della redazione ultima della monarchia a commento dell'autentica clericus codice 1333 in polemica con la dottrina che riconosce alla Chiesa il potere di sovraordinare la sua autorità alla potestà secolare razione peccati e nell'intento di restringerne la giurisdizione secondo il suo il carattere insomma della corrucchia dottrina alle sole materie di fede e a questo proposito Cino ricorda i duo luminaria per riaffermare la distinzione delle giurisdizioni soprattutto in materia penale e per giudicare tuttavia che la Chiesa ha usurpato un potere totale intromettendosi ovunque nella giurisdizione secolare è un luogo famosissimo nell'opera cignana preteria preteria deus facit duo luminaria unum quod preeset diei alterum quod preeset nocti id est unum quod preeset secularibus alterum quod preeset spiritualibus tamen quiquid dicat ecclesia sibi usurpavit razione peccati totan giurisdizione totan Chi avesse posto mente a questa differenza, alla differenza di intonazione tra Dante e il pensiero del suo miglior amico, nonché alle caratteristiche della computazione dantesca, della teoria della dipendenza del potere temporale dallo spirituale basata sulla metafora del sole e della luna, non si sarebbe meravigliato affatto della conclusione della monarchia che a molti invece è apparsa in netto contrasto con il significato generale dell'opera, laddove Dante dice ormai ho raggiunto la meta che mi ero proposto, è stata enucleata la verità di quella questione che si indagava se al buon ordine del mondo fosse necessario l'ufficio del monarca, libro primo, e di quella con cui si ricercava se il popolo romano si fosse arrogato l'impero di diritto, libro secondo, e infine di quest'ultima con la quale si voleva sapere se l'autorità del monarca dipendesse immediatamente da lui o da un altro. La verità di quest'ultima questione però non deve essere accolta in un senso così stretto. In un senso così stretto. Illa igitur, no, quequidem veritas ultime questionis non sic stricte recipienda est, ut romanus princeps in aliquo, romano pontificis, pontifici, scusate, non subiaceat, cum mortalis ista felicitas, quod ammodo ad immortalem felicitatem ordinetur, illa igitur reverentia cesa rutatur ad petrum, qua primogenitus filius debetuti ad patrem, ut luce paterne grazie illustratus virtuosius orbem terre irradiet, cui abillo solo prefettus est, cui est omnium spiritualium et temporarium gubernato. La verità di quest'ultima questione non deve essere accolta in un senso così stretto che il principe romano non sia in qualcosa soggetto, in aliquo, al pontefice romano, dal momento che questa felicità mortale è in qualche modo, quodam modo, ordinata ad una felicità immortale. Cesare dunque usi a Pietro quella reverenza che il figlio primogenito deve usare verso il padre affinché illustrato dalla grazia paterna, più virtuosamente illumini l'orda della terra, a cui è stato preposto da colui solo, che è il governatore di tutte le core spirituali e temporarie. Insomma, l'attenuazione finale è risultata ai più inaspettata, anche perché Dante conclude nel segno della metafora dei duo luminaria. Una volta corretto l'errore o la bugia formale del sillogismo, riponendo il termine luce al posto dell'abusivo autorità, Dante può accogliere pienamente l'idea di una funzione ispiratrice, di una più virtuosa azione del potere temporale. Di una, virgolette, affermazione veramente imprevedibile, scrive Vinay, riprendendo nel 1962, dodici anni dopo la sua edizione e traduzione, il filo dei suoi pensieri sulla monarchia, e ponendo, con riferimento alle contrapposte riflessioni di Monsignor Macarrone e di Bruno Nardi, l'alternativa. O Dante, da quell'uomo estroso che doveva essere, si è effettivamente contraddetto e ha scritto le ultime frasi del trattato sotto lo shock di un improvviso revirno, di una fulgurazione paulina, o il primo libro non è così razionalistico, diciamo meglio averroistico come ci è sembrato, e Dante è un cripto sostenitore della teoria del cosiddetto potere indiretto sul temporale. Oppure, il richiamo ad una subordinazione quodam modo non va preso nella immediatezza del suo significato letterale. E delle alternative tutte difficili da praticare. In verità, termino. L'affermazione di Dante è sorprendente, solo per quanti ancora leggano il trattato dantesco alla stregua di un tentativo di svincolare l'ordine umano, civile e politico, dall'ordine religioso ed ecclesiastico, ciò che non doveva essere la sua intenzione. Più che un sapore conciliatorio, essa ha il senso di una conferma della distinzione tra le potestà supreme, tale che non solo non implica una rigida separazione, ma implica invece una relazione che non ammette però che l'una sia fondamento e principio dell'altra. Dante esclude, insomma, ogni soluzione di tipo monistico, ma se il suo dualismo sia o no gelasiano, come ad esempio si interroga ancora Richard Key, è una questione abbastanza vana. Più importante sembra invece interrogarsi ancora una volta sul senso e sulla funzione di quel quodam modo, di quel quodam modo, nell'espressione con cui Dante espone la ragione stessa della subiectio dell'imperatore al pontificio romano, se questa si considera nel senso preciso che subiectus ha nel mondo medievale, come posto in posizione inferiore rispetto alla superiorità maioritas del Papa, Razione Dignitatis, che commenta il testo in tal senso. La ragione di questa subordinazione per non parlare di soggezione è dato qui. Mortal happiness is in a way, podam modo, directed to immortal happiness. E Anthony Castle, discutendo intorno a Dante e i Two Great Lights, nella prospettiva di una speranza di riconciliazione non ancora del tutto delusa da parte di Dante, ha giudicato l'espressione dantesca in termini di relativo conservatorismo nella sua visione della reciprocità, del reciproco rapporto dei due poteri. E una decina d'anni fa, John Scott, raccogliendo il dibattito più recente, ha scritto che il termine quodam modo, usato per descrivere la maniera nella quale la nostra felicità temporale è ordinata in funzione della beatitudine eterna, quel termine è ambiguo. Aggiungendo, una cosa sembra certa, esso non definisce con alcuna chiarezza le relazioni tra la sfera temporale e quella spirituale. Anzi, esso ci porta a pensare che Dante non abbia avuto l'intenzione di dare una definizione precisa. Dunque, un'ambiguità voluta, un'ambiguità programmatica. Concludo dicendo che l'ambiguità scompare se si accetta la lezione di testimoni di particolare importanza, come sono Ficino, a dispetto di quello che diceva Ricci, che proprio non voleva seguire Ficino. Ficino ignora. Ficino scrive, conciossi a che questa mortale felicità alla felicità immortale sia ordinata. Semplicemente. E se si accetta la lezione del più antico manoscritto della monarchia, cioè il londinese Addition 6891, Y, dimenticato da Pruscio nell'edizione nazionale del 2009, e che ho avuto l'avventura di riproporre, dopo le vecchie e dimenticate letture di Aldo Rossi, che nessuno appunto ricordava più, che ho riproposto nel 2011 ed ho utilizzato nella mia lezione della monarchia. Il manoscritto, che per ammissione tardiva della stessa show, che comunque lo considera come del tutto inutile alla costituzione del testo, è il più corretto tra tutti i testimoni del trattato, e che a mio giudizio conserva una serie di lezioni genuine non altrimenti attestate, Y legge semplicemente Cum mortalis ista felicitas ad immortalem felicitatem ordinete. Conservando anche un'altra lezione di certa suggestione, dove in luogo di qua osservi Cesare quella forma di reverenza che il figlio maggiore deve al padre, in luogo di qua, Utatur qua, legge Il laigitur reverentia Cesare utatur ad Petrum quam primogenitus filius debbe tutti ad patrem, lezione che se intendiamo bene deve intendersi con la traduzione Cesare usi dunque a Pietro quella reverenza quanta il figlio primogenito deve usare verso il padre, proprio tanto quanto inserendo un termine che riguarda ancora una volta la relazione di grandezza, che si accettino o no le lezioni dell'Additional 6891 o no, io credo che sia del tutto fuori luogo a sostenere come è stato fatto anche in passato che l'indipendenza del potere secolare a causa di questa chiusa della monarchia collassa del tutto, che la figale reverenzia dantesca, reverenzia come Dante la definisce nel convivio, confessione di debita subiezione per manifesto segno, confessione di debita subiezione, debita subiezione per manifesto segno, non possa essere interpretata semplicemente come una relazione potestativa in senso dominativo, sembra in ogni caso chiaro, proprio per il finale riferimento alla lux paterne grazie, in altre parole, è stato ancora ricerché a scriverlo, l'imperatore può assolvere la sua funzione naturale as the caretaker of the world, il protettore del mondo, il tutore del mondo, without the Pope's blessing, senza la benedizione papale, that he will act more effectively if he has the grace comforted by the Pope's blessing, può svolgere una funzione più efficace o più virtuosa con la benedizione papale. Il rapporto tra le due potestà universali si qualifica dunque, potremmo dire, in termini moderni, come relazione di reciproca autonomia, benché quella dell'imperatore sia un'autonomia reverente, reverente sotto l'unico potere di colui che solo non ha superiore. Vi ringrazio. Ringrazio dell'ascolto e della pazienza. Grazie molte per questa puntuale relazione su un problema così faticoso e che ha occupato nei secoli molti anche lo stesso Kelsen che insomma ci ha ragionato tanto. Che continuerà ad occuparci, ecco, probabilmente. Che continuerà ad occuparci, si spera. Grazie, grazie moltissime. Io passo la parola all'ultimo relatore che è Lino Pertile. Lo introduco anche se lo conosciamo tutti, però brevemente lo introduco. È professore emerito di Harvard University. Si è laureato a Padova, ha insegnato lingua e letteratura italiana in Scozia, in Inghilterra e poi prima di passare a Harvard nel 1995. Dal 2010 al 2015 è stato il direttore della Villa Itati, The Harvard Center for Italian Renaissance Studies di Firenze. Dal 2015 è socio dell'Accademia Ambrosiana e dell'Accademia Nazionale dei Lincei e poi ha pubblicato una serie di saggi di ampi che, insomma, come abbiamo fatto per gli altri relatori, dopo il primo abbiamo deciso di non citarli più. Molti di questi saggi sono naturalmente di argomento dantesco. infatti, diciamo che adesso è una delle voci più importanti del dantismo, direi, americano e italiano insieme, insomma, con i due cuori, come, insomma, con due cuori. Forse tre, non so. Prego, professore. Grazie, Claudio, di questa bella e generosa presentazione e grazie per l'invito che tu mi hai fatto a partecipare al vostro bel convegno. Io ricordo ancora con calore un periodo che passai a Trento, come dicevo in professa, qualcosa come a trent'anni fa, in un momento in cui mancava la voce dantesca. Credo ci sia stato un momento in cui non c'era un professore che insegnava a Dante e quindi Anna Dolfi invitò me. Mi pare che fossero 89, però potrei sbagliarmi, potrei controllare. Però lo ricordo con particolare calore, ricordo con particolare calore l'entusiasmo, l'interesse genuino degli studenti di Trento che mi colpì come qualcosa di straordinario, di unico nella mia esperienza di varie università. Ecco, ora veniamo al business di oggi, vediamo a quello che si deve fare oggi. Dopo i totissimi contributi di miei due colleghi, io scendo un po' a terra presentando quello che mi piace chiamare il caso di una allegoria popolare. È infatti un esempio di allegoria popolare tratto da un volume da me appena pubblicato da lungo, dal titolo appunto di Dante Popolare. Bene. Oltrepassato il secondo cerchio dell'inferno, un visitatore, diciamo, curioso, poteva e può chiedersi tuttora Eulisse, dove sarà mai? Perché non nel limbo con Ettore ed Enea, per esempio? Perché non nella bufera infernale con Elena, Paride ed Achille. La sua assenza, dico, l'assenza di Eulisse dai luoghi deputati dell'epica e del romanzo, aguzza nel visitatore il desiderio di sapere quale ne sia, secondo date, il destino. La sua intelligenza, che vinceva ogni ostacolo, non avrà per caso vinto anche la morte, ci si crede. Dove mai sarà andato a perdersi, a morire? Queste forse sono le domande che assillano non solo la nostra, ma anche la mente del poeta, di Dante, quando finalmente lo incontra è tanto più giù del quarto canto, tanto più giù del limbo, nell'ottava bolgia dell'ottavo cerchio. E per questo forse è così ansioso di parlare con lui, l'unico tra i grandi eroi dell'antichità che ancora manchi all'appello. Dante struttura l'episodio in due segmenti. Nel primo, il segmento classico, diciamo, o alto, Virgilio presenta Ulisse elencandone in due terzine gli inganni perpetrati alla guerra di Troia. E in questo non c'è nulla di nuovo o controverso. Nel secondo, quello che io chiamo il segmento popolare o basso, è Ulisse, che racconta in prima persona una storia mai sentita prima. Ma ci direbbe quasi letteralmente una novella, Delle due parti, è ovvio che la seconda è quella che interessa a Dante. Ulisse viaggiatore o esploratore più dell'Ulisse guerriero. Questa dell'Ulisse viaggiatore è appunto la figura che in veste allegorica si incontra nella tradizione religiosa del Medioevo. Un'Ulisse di cui favoleggiano ancora i racconti popolari, un Ulisse che col tempo è mutato più di ogni altro eroe antico, fin quasi a perdere ogni apparente legame con l'invenzione omerica. Ora finalmente Dante vuol sapere, ossia vuole svelare, ciò che nessuno sa, il modo della morte di Ulisse, lo sbocco finale del suo ingegno. E' un argomento così importante che il poeta gli dedica un intero canto. Ora ogni lettura del canto ventiseiesimo e del ventisettesimo dell'Inferno ha un punto di partenza obbligato, secondo me, nei versi 19-24 del ventiseiesimo. I versi sono questi. Dante afferma che si dolse allora, quando vide con i suoi occhi l'ottava boge dell'ottavo cerchio dell'Inferno e torna a dolersi ora, quando deve rievocare quella visione per metterla in versi. Il motivo di tanto dolore sarà materia di questo canto e del seguente, ma intanto viene suggerito per generale e istruttiva implicazione nei quattro versi successivi, in cui la boge ci fa capire il narratore. Vidi anime dannate per non aver voluto o saputo tenere l'intelligenza sotto il controllo della virtù. Forte di questa esperienza, ora più che mai faccio attenzione a come impiego il mio ingegno nella consapevolezza che è lasciata a se stesso senza la guida costante di valori morali, esso potrebbe provocare la mia rovina eterna. Potrebbe far fare anche a me la fine dei dannati dell'ottava boge. Due fatti insoliti colpiscono il lettore. Primo, Dante, narratore, si identifica personalmente in maniera del tutto inconsueta con i peccatori di questa boge. Secondo, questo riconoscimento ha luogo eccezionalmente in anticipo sul racconto. Il racconto che illustra il peccato qui punito. Ossia, l'enunciazione della morale della storia, della morale della favola, precede in questo caso la narrazione della favola stessa. O meglio, delle favole, perché due sono le storie parallele che Dante sta per raccontarci. Quella dell'Anticolisse e quella del Contemporaneo, guido da Montefeltro, morto solo nel 98, mi pare. Quindi due anni dopo la data, diciamo, fictizia del viaggio dantesco. E una storia ovviamente illumina l'altra. Prima ancora che leggiamo i due canti siamo avvertiti che hanno per argomento una questione etica fondamentale che Dante sente con grande intensità proprio mentre va componendo il poema. In effetti, si tratta, di nuovo secondo me, di un problema tuttora vivo, anzi più vivo che mai oggi, della nostra cultura. Che cosa ci è permesso di fare con la nostra intelligenza? Fino a che punto possiamo spingersi con essa? Possiamo lasciare che percorra tutta la sua strada fino in fondo senza nessun riguardo per considerazioni civili, morali, religiose? In ultima analisi, il peccato qui in gioco è il peccato intellettuale per eccellenza. Il peccato di Adamo, se vogliamo, il quale appunto, come dice Dante, per non soffrire alla virtù che vuole freno al suo prode, da no se stesso e tutta la sua prode. Nel resto qui, la similitudine del bue di Perildo che si accampa o renda all'inizio del canto ventiseppesimo, il canto di Guido, non lascia dubbi. È un esempio perfetto di una nuova tecnologia che provoca la rovina di chi la inventa. Una straordinaria, viva, atroce allegoria. Leggiamola insieme. come il bue siciliano che mugghiò prima col pianto di colui e ciò fu dritto che l'avea temperato con sua lima. Mugghiava con la voce dell'afflitto, sicché con tutto che fosse di rame, eppure il pareva dal dolor trafitto. Perillo, l'ingegnoso artefice etanese che forgia per il tiranno falaride l'insolito strumento di tortura, è il primo a provarne l'efficacia. E lui, l'inventore, che prova, diciamo, l'efficacia della sua invenzione, le sue urla, le urla di dolore di Perillo, danno ironicamente la misura concreta dell'altezza del suo ingegno. Più atroce il dolore, più alta e disumane le grida. E meglio provata è l'efficienza della sua macchina. Più evidente lacune della sua intelligenza. Quale altro similitudine si può immaginare che sia più efficace per dare l'esempio di una intelligenza che si distrugge una intelligenza autodistruttiva. Quindi similitudine densa di significato morale che ha però anche molteplici funzioni narratologiche, nonché la fatica che costa a Guido il parlare esprime la duplicità dell'uomo fiamma e ne preannuncia la fine, ma illustra anche la condizione penale degli abitanti di tutta questa boggia e per l'impida implicazione il loro peccato. Perillo è appunto un esempio perfetto di come inevitabilmente un ingegno sfrenato arrivi a provocare la propria distruzione. Non per niente compare nelle raccolte medievali di casi di personaggi puniti dallo strumento stesso della loro offesa. Anzi, in queste raccolte di esempi ad uso dei predicatori, Irte di citazioni bibliche è l'unico, a quanto deve subito, l'esempio classico. Al pari di Perillo e in certo senso di Adamo e come Dante il narratore teme tuttora di fare, Ulisse e Guido si sono invidiati, cioè si sono tolti, si sono privati di un bene, l'attezza dell'ingegno, che avevano avuto in sorte dalla grazia divina. Ulisse e Guido con tutto il loro ingegno anziché salvarsi alla fine si perdono. Questo è indubbiamente il loro messaggio esemplare. Come mi propongo di mostrare in quanto segue, le due storie sono costruite su una griglia sola, sullo stesso modello narrativo fornito dall'avventura di Ulisse e delle sirene. L'unica dell'Odissea è rimasta famosa con o senza Ulisse in tutta la cultura medievale. Nell'Odissea l'avventura delle sirene si colloca tra la visita dell'eroe, cioè di Ulisse e dell'eroe all'Ade e il suo ritorno in patria. Volendo essere schematici la si può condensare intorno a tre momenti principali. Primo, Ulisse parte da Circe diretto verso Itaca con le istruzioni della maga su come premunirsi contro il richiamo irresistibile delle sirene. Secondo, giunto nei pressi dell'isola delle sirene, seguendo le istruzioni della maga, ottura con la cera le orecchie di suoi compagni mentre lui si fa legare all'albero della nave. Terzo, con tale astuzia riesce ad acquistare piena esperienza del canto meraviglioso delle sirene e allo stesso tempo proseguire il suo viaggio senza andare a sfracellarsi contro gli scogli della terribile isola, come invece regolarmente avviene a tutti i marinai che hanno la sventura di navigare quelle acque. Ora, fin dai tempi dell'elenismo, il pensiero stoico e neoplatonico aveva interpretato il mito di Ulisse delle sirene in chiave allegorica. Quindi l'allegoria è antichissima in questo caso. In risposta alle severe critiche di Platone, Ulisse era diventato personificazione di saggezza, prudenza, coraggio, pazienza. Nonostante qualche voce di dissenso, i padri della chiesa avevano fatto proprio questa visione, nonostante qualche voce di dissenso, i padri della chiesa avevano fatto propria questa visione. Anche perché essa si adattava perfettamente a un nodo di potenti simboli elaborati dalla cultura cristiana dei primi secoli e rapidamente diffusi attraverso la parola e la rappresentazione iconografica, cioè la vita come viaggio per un mare infilo e tempestoso, la chiesa come navi il cui albero maestro è la croce, il paradiso come porto finale del viaggio. Erano simboli validi simultaneamente sia per il popolo cristiano sia per l'anima individuale e pertanto avevano un grande potere di suggestione. La storia di Ulisse delle sirene sradicata dal suo contesto epico omerico diciamo filtrata attraverso la lente neoplatonica li integrava in maniera mirabile arricchendogli di inattese risonanze e profondità grazie grazie alla sua enorme popolarità era un veicolo ideale per la trasmissione dell'idea del viaggio dell'anima sulla nave della chiesa nel mare della vita dall'esilio terrestre alla patria celeste. Le sirene già in Omero promettevano piacere ai sensi e conoscenza all'intelletto benché al prezzo della vita. In epoca ellenistica e ancor più nella letteratura patristica divennero simbolo di lussuria mortale ma l'altro bene che promettevano il sapere celebrato da Cicerone in un passo famoso continuò a essere presente anche se in misura variabile. Per esempio fu molto forte quando i padri della chiesa se ne servirono per mettere in guardia contro il razionalismo eretico. Il fatto poi che di Sirene parlasse anche la Bibbia contribuì in maniera sostanziale ad autorizzare inizialmente l'impiego del simbolo e garantirne la sopravvivenza in tempi sempre più ostili o sordi alla cultura antica. in breve le Sirene dolci e micidiali divennero simbolo quasi per antonomasia della duplice tentazione sensuale e intellettuale che si frappone tra questo mondo e la salvezza eterna. Eulisse esempio del saggio per eccellenza che insegna come superarla. I riferimenti alle Sirene e al loro dolce e mortifero canto contro il quale il prudente Ulisse insegna a tapparsi le orecchie sono molto frequenti in San Gilolamo un passo dell'Apologia contra Rufinum poi finito in varie biografie del santo è particolarmente suggestivo qui San Gilolamo scrive venni a Reggio mi fermai per un po' sul lino di Scilla dove appresi le antiche favole e il corso precipite dell'astuto Ulisse e le canzoni delle Sirene e la voragine insaziabile di Carinzi. Fu però Sant'Ambrogio a fissare nell'immaginario cristiano il mito delle Sirene richiamandosi ad esso in diversi luoghi della sua opera. Nell'iniziare il quarto libro dell'esposizione del Vangelo secondo Luca in un passo tutto in tessuto di ecchiomerici dopo aver accennato alle Sirene Sant'Ambrogio spiega ma c'è mare più pericoloso del mondo che è così infido così volubile così profondo così agitato dalle bufere degli spiriti immondi che cosa significa l'immagine di quelle giovani donne se non la lusinga di un piacere che svililizza rendendo effevinata la fermezza dell'anima che se ne lascia adescare e che sono quei bassifondi sedon gli scogli dove naufraga la nostra salvezza infatti infatti non v'è agguato più nascosto del piacere mondano che mentre blandisce l'anima distrugge la vita e spinge al naufragio la forza dello spirito contro gli scogli del senso ora come fa Ulisse a superare la micidiale canzone delle sirene dulcem sed mortiferam cantilenam ci riesce come si sa bene facendosi legare all'albero della nave quell'albero che con il pennone forma il simbolo centrale del cristianesimo cioè la croce questa astuzia del sagace eroe si carica agli occhi cristiani di un profondo significato mistico Ulisse vince il mortale pericolo ponendo un limite alla propria libertà d'azione cioè per usare un'espressione dantesca accettando freno a suo prode cioè un freno a suo vantaggio per il suo bene è vero anche il poeta greco scrive Sant'Ambrogio ci rappresenta il suo astuto eroe che stretto dalle catene se così possiamo dire della sua prudenza oltrepassa quel canto senza ascoltarlo e che non è vero ma vengo a questo punto tra un momento l'immagine raffigura un paradosso tipico del discorso mistico cristiano la libertà primaria di giungere al porto finale si conserva ma solo frenando frenando la libertà secondaria di muoversi quella libertà che lasciata a se stessa ci condurrebbe fatalmente a sfracellarci sugli scogli delle sirene vedete come questo discorso questo diciamo questa narrativa questo discorso mitico si adatti perfettamente a quella anticipo a quella morale della favola che Dante presenta all'inizio iniziando il canto ventiseiesimo do qualche esempio solo alcuni Massimo di Torino nel quinto secolo in un suo famoso servore in onore della croce racconta l'episodio delle sirene e spiega che Ulisse si salvò e giunse in porto grazie all'albero della nave a cui si era fatto legare osserva quindi che se si racconta questa che è una favola tanto più degno di essere detto e ripetuto è un fatto veramente accaduto veramente accaduto ecco la differenza fra appunto la favola e la la realtà cioè che l'albero della croce ha strappato dal pericolo della morte l'intera razza umana da quando Cristo Signore si fece legare alla croce anche noi possiamo oltrepassare le tentazioni del mondo con le orecchie tappate il suono esiziale delle cose terrene non ci trattiene più né dalla rotta intrapresa verso una vita migliore deviamo più verso gli scogli della voluta perché l'albero della croce non solo riporta in patria l'uomo che si è legato a esso ma con l'ombra della sua virtù protegge anche i compagni di lui raccolti intorno e subito doppio aggiunge e qui cito in traduzione che dopo tanto errare la croce ci faccia ritornare alla nostra patria lo dichiara il Signore dicendo al ladrone posto in croce accanto a lui oggi sarai con me in paradiso questo ladrone lungamente errante naufrago non avrebbe mai potuto ritornare in patria alla patria del paradiso dal quale era uscito il primo uomo se non fosse stato legato all'albero della croce dal quale era uscito il primo uomo scrive Massimo in un inciso questa frase è di grande importanza perché estende esplicitamente la corrispondenza tra il viaggio di Ulisse che vinte le sirene giunge alla sua meta e il viaggio storico del genere umano che legato all'albero della croce ritorna in paradiso da dove era uscito il primo uomo dunque la favola omerica non esiste più come mito ma è diventata allegorie Ulisse non è più l'eroe della guerra di Troia ma il cristiano che nel mare della vita vince le sirene e ritorna alla patria celeste è un'idea che ricorre spesso nella letteratura monastica particolarmente avversa alle lusinghe della vita mondana qui vi risparmio qualche esempio ma vengo qui a un terzo diciamo esempio che a me sta particolarmente a cuore nella cultura medievale l'epos originale di Ulisse si frammenta le sue singole imprese acquistano vita indipendente diventano favole separate prive del filo narrativo che nell'originale le tiene insieme in una sequenza continua che si conclude felicemente con la restaurazione dell'eroe sul trono di Itaca e Dante lo stesso Dante sembra non rendersi conto che c'è questa importanza di questa sequenza nei secoli dall'undicesimo al tredicesimo queste favole debitamente adattate vengono illustrate e raccontate a scopo edificante persino nelle chiese da dove entrano nel circolo della cultura popolare la ragione della loro popolarità è che soddisfano un bisogno istintivo di rivalza individuale che l'etica cristiana tende a reprimere rimandando ogni rivendicazione alla vita oltremondana questa è la mia interpretazione naturalmente il tratto che più di ogni altro avvince il pubblico è l'uso spregiudicato e uguagliante dell'intelligenza operativa un'intelligenza che consente anche al personaggio più debole di sovvertire le gerarchie sociali e naturali per spuntarla sul più forte il più ricco il più colto il più potente nel caso di Ulisse è la sua capacità di battere per forza di ingegno anche gli avversari notoriamente più invincibili per dire il gigante polifemo i crudelissimi lotofagi gli orribili mostri scilla e cariddi le micidiali e irresistibili sirene lo speculum ecclesiae una raccolta di sermoni esemplari ad uso dei predicatori di Onorio o Augusto Dunense o di Otan lo speculum ecclesi è una delle opere più diffuse di Onorio il testo riportato nella patologia latina conserva tra un paragrafo e l'altro e questa è una cosa secondo me di grande importanza conserva traccia di istruzioni per l'uso io le chiamo così istruzioni per l'uso di grande interesse in esse in queste istruzioni Onorio consiglia il sacerdote sui modi più efficaci di utilizzare i suoi sermoni per esempio e qui cito qui termina pure se vuoi se il tempo lo permette aggiungi queste cose altro consiglio le cose seguenti le devi dire solo nelle grandi feste altro consiglio in ogni sermone devi pronunciare il primo verso in latino e poi darne una spiegazione nella lingua parlata patria lingua in occasione della domenica di settuagesima Onorio consiglia ai predicatori di utilizzare spesso nei loro sermoni la storia delle sirene è un modo sicuro dice per vincere la noia dei fedeli e insegnar loro un'importante verità ossia come si debba rinunziare alla musica dei diletti mondani per poter poi con gli angeli godere dell'armonia dolce dei cieli la storia in questione dice è una gemma della lordura dei testi classici e perciò eccezionalmente non è indecente raccoglierla eccola adesso ve la leggo nella mia traduzione i sapienti di questo mondo scrivono che in un'isola del mare c'erano una volta tre sirene le quali cantavano una canzone dolcissima ciascuna in modo diverso una con la sua voce un'altra con un flauto la terza con una lira avevano volte di donne e artigli e ali di uccelli con la dolcezza del loro canto fermavano tutte le navi di passaggio e addormentatini i marinai li facevano avrani e ne affondavano le navi ma un certo duca di nome Ulisse questo è bellissimo Quidam Dux Ulixies Quidam Dux Ulixies un certo duca di nome Ulisse dovendo passare per quei paraggi ordinò ai suoi compagni di legarlo all'albero della nave e a loro di otturarsi gli orecchi con della cera così riuscì a superare il leso quel pericolo e a negare le sirene nei flotti tutta qui la riscrittura di Onorio molto semplice e non sembra granché rispetto all'originale Omeric ma ebbe tanta fortuna da venire subito illustrata in tre straordinarie immagini dell'Ortus deliciarum di Errado di Landsberg Badessa di Ouenburg in Alsazia adesso vediamo se riesco a farvi vedere questo caso che magari già conoscete comunque è qui eccolo qui questa è la prima ecco qua le tre sirene una, due, tre uno che canta l'altro che suona manca la condivisione dello schermo oh mamma mia qui manca la condivisione dello schermo allora che faccio share screen tasto verde ok aspetta un momento allora adesso tasto verde adesso c'è o no adesso bisogna scegliere sul computer lo schermo che vogliamo mandare ok adesso c'è si vede adesso sì perfetto grazie ecco qui dice queste due tre sirene questa è questa è purtroppo è una ricostruzione ricostruzione filologicamente immagino accettabile perché l'originale andò in fiamme nell'Ottocento durante un terribile incendio quindi questa è una ricostruzione e qui le tre sirene tratte dall'Ortus del Charum che è una grande encipiabilità di testi e immagini sapientemente intrecciati verso la fine del dodicesimo secolo a formare una specie di storia del mondo come storia della salvezza l'episodio delle sirene fa parte di una serie di esempi tese insegnare il disprezzo del mondo e l'amore di Cristo osserviamo brevemente le tre scene così espertamente tracciate nell'Ortus del Charum colpisce innanzitutto la completa attualizzazione del racconto antico nelle prime due scene sistemate in una sola tavola ecco questa è la prima ma vediamo forse riesco a è questa la seconda questa è la seconda va bene la seconda si illustra quel che avviene oggi ai naviganti che ascoltano il canto delle sirene si addormentono e una volta addormentati le sirene li scaraventano in acqua senza tanti complimenti nella terza è invece riscritta in maniera estremamente economica ma efficace la storia di Ulisse ecco qui la terza qui sotto che è assolutamente meravigliosa eccola qui questa è la terza la terza immagine il dux ecco qui il dux che ha il dux Ulisse vi appare in piedi nei panni di un cavaliere porta un'armatura con maglia metallica elvo nasale grande scudo di angolare è visibilmente legato all'albero della navicella e con l'indice della mano destra mostra il cavaliere che gli sta accanto quel che i marinai stanno facendo alle tre sirene la prima l'hanno già gettata tra le onde e benché sia ormai affogata un marinai la sta spingendo ottenendo sott'acqua con una lunga pertica la seconda l'hanno ormai scaricata quasi contemplamente completamente fuori bordo e con il capo tocca l'acqua la terza è ancora in piedi a prua della nave ma è piegata in due perché un marionario l'ha presa per i capelli e la sta tirando in giù sotto il lungo abito elegante le si vedono le zampace artigliate di rapace come nel racconto di Onorio la scena mostra come la morale cristiana riesca a vincere anche l'invincibile forza delle sataniche maliarde ah ecco qui vediamo se fosse ma va tutto bene perché io mi sono perso un pochino quella adesso c'è una foto in credo sia lo schermo deve fare lo stop dello sharing stop sharing ecco qui perfetto c'è fatto? bene bene allora vado avanti bene come avete visto dall'orizzonte fantastico svaniscono sia Circe che Itaca la favola serve a destare l'attenzione degli ascoltatori ma quel che importa è il suo senso allegorico che Onorio espone con tantissima chiarezza sono cose mistiche dice Onorio anche che scritte dai nemici di Cristo il mare è la vita di questo mondo con tutte le sue tempeste l'isola è il raro piacere che interrompe la distesa delle sofferenze le tre sirene hanno volti di donna perché nulla aliena la mente dell'uomo da Dio come l'amore della donna hanno ali d'uccello perché il desiderio dei beni mondani è sempre instabile hanno artigli di rapaci con i quali straziano gli uomini che attirano nel peccato e poi li trascinano le torture dell'inferno la sirena che canta con voce umana è l'avarizia quella che suona il flauto è la superbia la terza che suona la rira è la lussuria l'onda divora la nave dell'avaro la voragine della morte inghiotta il superbo la turba di cocito divora il lussurioso Ulisse è il sapiente sapiens per eccellenza figura del popolo cristiano veramente saggio che attraversa illeso il mare della vita sulla nave della chiesa per timore di Dio si fa legare all'albero della nave cioè alla croce di Cristo sigilla le orecchie dei suoi compagni con la cera che è l'incarnazione di Cristo perché dai vizi e concupiscenze distolgano il cuore e li volgano solo alle cose celesti dominate le concupiscenze con la forza del loro spirito i marinai mentre le sirene affogano fuggono illesi al pericolo e dopo la vittoria giungono alla felicità celeste l'esposizione è chiarissima ma secondo me lacunosa nessuna parola infatti su quelle orecchie aperte di Ulisse sul piacere del canto che l'eroe omerico desidera e riesce a strappare alle sirene il suo stratagemma viene sentito come un atto di volontaria prudente rinuncia non di astuta e controllata autogratificazione i nodi che lo legano all'albero maestro gli conservano la libertà di giungere in porto il suo ingegno è messo al servizio della virtù insomma è una o uno Ulisse radicalmente moralizzato eppure qualcosa rimane dell'originale l'allegoresi ignora o contraddice il senso della storia ma non lo cancella del tutto il motivo dell'ingegno dell'eroe estromesso dalla superficie della favola rimane attivo a un livello più profondo perché infatti Onorio è così sicuro che la favola vincerà la noia degli ascoltatori perché non certo perché in essa Ulisse si salva rinunciando non è questo evidentemente che interessa agli ascoltatori ma bensì perché Ulisse si salva prendendo ciò che desidera esaudendo il proprio desiderio la favola celebra un uomo che con il suo ingegno ottiene ciò che vuole anche contro esseri apparentemente invincibili come le sirene quel che attrae sul piano della lettera non è tanto la rinuncia di Ulisse quanto la sua vittoria sulla regola che vuole che l'inerno e marinaio soccomba al canto e finisca sotto gli artigli delle donne uccello l'esempio fantastico di Ulisse permette di identificarsi una volta tanto con un debole che sopravvive per forza di ingegno un debole che prevale per questo a differenza di tanti altri eroi più forti e valorosi di lui Ulisse viene adottato dalla cultura popolare a giudicare dalla frequenza con cui lo si narra e lo si illustra o più semplicemente vi si allude magari senza nemmeno fare il nome di Ulisse l'episodio delle sirene doveva essere tra i più diffusi nella cultura popolare del medioevo si sa di certo che era un tema molto comune nella cultura monastica e anche una di quelle storie in cui l'uso scaltro della parola non c'entra affatto nel caso delle sirene Ulisse si salva grazie al suo ingegno operativo sfruttando risorse minime che ha sotto mano un po' di cera della corda cianfrusaglie che ogni marinaio è in grado di rimediare con queste riesce a ottenere ciò che vuole ascoltare il canto delle sirene senza farsi sopraffare da esse vincere forze sovrumane e farla franca giungendo addirittura secondo l'adegoria in patria Dante non conosceva direttamente Onorio né gli altri testi che ho citato poco fa non siamo sicuri di questi ma sembra non ci sono ci sono prove che Dante li conoscesse ma questi testi ci permettono di farci un'idea non arbitraria di nozioni intorno alla figura di Ulisse che dovevano circolare nella cultura del tempo tali nozioni decisamente interdiscorsive diciamo vengono riprese in forma sintetica in un'opera che Dante certamente conosceva perché la cita e utilizza nel convivio queste sono le diffusissime derivazioni di Ugguccione da Pisa vescovo di Ferrara morto nel 1210 ecco che cosa scrive Ugguccione al lemma olon 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 ecco dicitur sic Ulisses quasi olon senos dunque Ulisse si chiama appunto deriva da il nome di Ulisse secondo Ugguccione deriva dal greco olon senos vel quasi peregrino somnium quindi per il pellegrino da tutte le cose iste designat sapiente è vero questa parola designa il sapiente il quale in questo mondo vive come un pellegrino vive da pellegrino e qui e qui Ugguccione cita San Paolo quel San Paolo che è fondamentale una fondamentale figura diciamo della condizione umana secondo la cristianità secondo il pensiero cristiano dice infatti subito dopo non enim ic abemus manentem civitatem sed futura inquirimus non abbiamo qui una patria una una casa una una città permanente ma qui noi cerchiamo quella futura cerchiamo la patria e il futuro Ulisse infatti molto peregrinò nella sua vita ecco che Ulisse diventa simbolo quindi che cosa del cristiano della condizione umana del cristiano della condizione del cristiano i due punti fondamentali della personalità dell'Ulisse popolare sono qui perfettamente esposti il destino di Ulisse viaggiatore è già iscritto nel suo nome peregrinus omnium quei viaggi non sono futili o fine a se stesse ma sono viaggi in cerca della patria futura è proprio da questi accenni che potrebbe plausibilmente prendere avvio la tanto discussa invenzione dantesca dell'ultimo viaggio di Ulisse Dante compie un'operazione straordinaria sul modello dell'episodio delle sirene costruisce una storia in cui il sapiens e peregrinus Ulisse servendosi del suo ingegno tenta di giungere alla patria futura di cui come dice San Paolo tutti noi esseri umani siamo in cerca determinante mi sembra l'idea paolina della futura Civitas nel suggerire al poeta l'anacronismo per cui senza saperlo ma secondando il suo naturale ingegno Ulisse antico pagano e peccatore si avventura in uno spazio tempo cristiano un futuro che la natura stessa gli vieta di abitare e di fronte al quale finisce inevitabilmente per naufragare in altri termini Dante come il suo Ulisse converte in esperienza reale il viaggio metaforico dell'anima che alla fine della vita giunge o ritorna al paradiso terrestre solo che Ulisse non sa non può sapere che quel porto è vietato a tutti finché Cristo non verrà a riaprirlo con il suo sacrificio a provare che questo è davvero il modello buono sta il fatto che esso si applica con uguale chiarezza e precisione anche al caso di Guido da Montefeltro con la differenza che mentre con Ulisse Dante letteralizza l'allegoria con Guido secondo me metaforizza la lettera fatte le debite differenze Ulisse e Guido vogliono giungere entrambi al porto definitivo della conoscenza e della felicità in questo senso la loro ultima e più ambiziosa impresa è centripleta e lodevole il problema sono i mezzi non il fine forti della loro esperienza i due si affidano al loro ingegno anche per questa impresa accettano entrambi la sfida dell'ultima tentazione credono di poter trasgredire senza pagare il prezzo della loro trasgressione in sostanza cercano di salvarsi peccando la loro astuzia non si manifesta ai danni dei compagni dei loro compagni di Ulisse nel caso di Ulisse sono i suoi compagni nel caso di Guido e Tafo Bonifacio bensì in entrambi i casi è una una astuzia che si che si concretizza ai danni di che cosa della giustizia divina ecco l'estremo progetto di queste due intelligenze un progetto che è ovviamente consapevole nel caso di Guido tanto che Guido usa addirittura la confessione per ottenere quel che cerca il quale risulta perciò assolutamente colpevole inconsapevole invece nel caso del magnanimo Ulisse e quindi tragico secondo me perché soggettivamente innocente anche se necessariamente colpevole nei fatti e di qui la diversa risonanza dei due personaggi e dei due campi in definitiva Ulisse e Guido finiscono vittime del mito della loro intelligenza per il pagano Ulisse la via della salvezza quantomeno del limbo passava per Itaca e il pentimento non per le colonne d'Ercole resistere al tentazione del mondo senza gente al richiamo della conoscenza al desiderio del paradiso in terra questo è quello che Ulisse avrebbe dovuto fare è vero per venire preso in considerazione dalla possibilità della salvezza per il cristiano Guido la salvezza passava non tanto per il cordone francescano di cui si era cinto quanto per la regola interiore che aveva sposato significava sventare la sfida di Bonifacio ma non con l'astuzia bensì con il candore del giusto cioè rinunciando anche con a costo di fare un sacrificio personale rinunciando a cooperare con il Papa in entrambi i casi insomma era altro il viaggio da tenere per salvarsi il parallelo tra i due personaggi va però oltre si credeva che Ulisse e Guido avessero alla fine trionfato di Ulisse l'allegoria raccontava che legato all'albero della sua nave aveva vinto le sirene ed era giunto a Itaca e alla sua patria definitiva del nobilissimo nostro latino Guido Montefeltrano circolava voce che calate le vere delle mondane operazioni era giunto in porto morendo addirittura in odore di santità e non solo Dante ma lo stesso personaggio dantesco di Guido ne era convinto ricordo quindi questo riferimento a Guido del convivio ora le notizie che Dante comunica dopo la sua visita all'inferno impongono ai lettori una revisione radicale di entrambe le storie i due i due non ce l'avevano fatta Ulisse aveva battuto le sirene ma aveva perso una sfida molto più importante Guido pensava di essere stato assolto ma calcolava male perché non si può venire assolti prima di peccare in entrambi i casi quel bene che avevano avuto in sorte dalla vita e li aveva fatti trionfare in terra alla fine li aveva traditi avevano tentato di entrare in porto con le vere alte dell'ingegno non con quelle basse dell'umiltà e dell'amore e perciò non in patria erano finiti ma nell'eterno esilio grazie ti fermo grazie grazie per questa appassionante rilettura di questo mito che devo dire non ha coinvolto solo i medievali ma ha coinvolto anche noi che abbiamo ascoltato ci siamo messi un po' nei panni in tutte quelle situazioni in cui magari vogliamo farcela con le nostre forze insomma siamo trovati un po' a condividere questo personaggio quasi come in un racconto grazie dunque allora noi abbiamo adesso abbiamo adesso lo spazio per una discussione tuttavia alcune persone che erano con alcuni colleghi alcuni studiosi che erano con noi ci hanno lasciato prima perché sapevo che avevano altre cose alle quali non potevano rinunciare loro mi hanno detto che rimanderanno la discussione sulle relazioni di stamane alla tavola rotonda quindi comunque le discussioni per chi è andato via siccome c'erano soprattutto gli storici del diritto che hanno ascoltato però ecco non sono presenti e loro discuteranno poi tutto alla tavola rotonda finale del sabato e quindi non diciamo che la discussione ci sarà comunque ma la differiamo al sabato quindi adesso qui per chi è ancora a desiderio di intervenire o di commentare queste così dense lezioni magistrali prego Rino ti lascia la parola la battuta sono molto così contento dei tre ascolti diciamo per motivi diversi e quindi adesso ho l'effetto sono sotto l'effetto delle ultime parole di Lino e voglio dire ancora una volta quanto i moderni no non dico i contemporanei ma i moderni riscoprano le cose antiche perché mentre Lino parlava io pensavo alla interpretazione molto suggestiva anche affascinante che Teodor Adorno ha dato di Ulisse come eroe borghese no cioè Ulisse che appunto vuole provare tutto comprese le emozioni della pancia diciamo così e non solo quelli della mente e quindi si fa legare all'albero ma insomma con la cera agli altri non degni di un'esperienza così integrale qual è quella che lui compie e allora vedendo adesso le immagini che Lino ci proponeva ho pensato immediatamente a questa che è un acquisto importante del dibattito almeno novecentesco ma insomma è interessante che invece Lino l'abbia proprio enucleato lì in quella diciamo lettura proprio di quella allegoresi era così un'osservazione davvero immediata che volevo fare essendo tu uno specialista di Ulisse direi avresti qualcosa a dire anche su Pirandello ed Ulisse immagino non posso provocare no 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 non mi pare il caso perché insomma gli amici questo Ulisse ci ha proprio coinvolto questo è evidente questo personaggio che diventa addirittura il debole che col suo ingegno riesce a come dire a la vera differenza appunto tra l'immagine salvifica del novello Ulisse Dante rispetto all'Ulisse ma Lino giustamente valorizza l'aspetto il tentativo di salvezza nel peccato di Ulisse ecco questo è un dato esegetico per esempio che non è molto presente anche in recenti dibattiti cioè il fatto che comunque Ulisse compie lo stesso viaggio ma volendo rimanere peccatore no invece l'altro è novello perché lui il volo non lo fa folle agostinianamente è un volo sanus non sanus basta e Lino volevi dire qualcosa no per buttarla un po' in ridere volevo dire che finché uno di noi non va a visitare è vero l'altro mondo non possiamo dire dove Dante sia andato a finire così come non si sapeva dove Ulisse fosse andato a finire come Dante non sapeva così noi non sappiamo dove sia andato a finire veramente Dante va bene adesso Dante è l'ante della terza dovrebbe saperlo perché avrebbe avuto raggiungerlo in questi giorni comunque questi sono un po' degli scherzi spero che non abusare della mia posizione ma sono d'accordo in sostanza con quello che diceva Rino Michele vuoi intervenire? Vuoi dirci qualcosa? Buonasera a tutti grazie Claudia io intervengo solo perché tu mi hai interpellato ma prima di tutto ringrazio moltissimo i tre relatori sono state tre relazioni straordinarie io ho imparato moltissimo e ho riempito pagine e pagine di appunti avrei molte cose su cui porre domande ma mi limito a una sola anche perché ormai l'ora è tarda poco fa il professor Pertile parlava di esempi di esempi tra cultura classica e cultura medievale di una intelligenza eccessiva che viene punita in qualche modo e in Dante questo si riassume nell'episodio del bue di perillo naturalmente volevo aggiungere una chiosa relativa alla cultura classica ma una cultura classica di carattere popolare di fabule o novelle che trasmettono un'idea un'idea analoga in Petronio nel Satiricon c'è una una novella che si conosce come la novella del vetro infrangibile un artigiano inventa un oggetto prodigioso appunto un vetro che non si rompe e quindi è un contenitore perfetto garantisce la visibilità del contenuto la trasparenza ma ha il pregio di non essere fragile e tutto contento questo inventore porta la sua invenzione davanti a Giulio Cesare e Giulio Cesare dopo aver ascoltato l'entusiastica narrazione di questo inventore ordina che immediatamente gli sia tagliata la testa perché quel prodotto avrebbe rivoluzionato talmente tanto la cultura e l'artigianato mondiale che era meglio che non trapelasse insomma e mi pare una bellissima allegoria della coercizione con cui il potere dall'alto stronca l'intelligenza individuale e pone un freno alla libertà della mente umana e ne approfitto quindi per chiedere al professor Pertile visto che lei ha setacciato tutta la allegoresi di Ulisse negli scrittori medievali in particolare quella bellissima pagina di Onorio di Oton e non le sembra che appunto la cultura medievale cerchi di mascherare questa coercizione del potere sotto il velo l'integumentum per riprendere le parole di Francesco Zambon della religione e della salvezza cristiana certo grazie della domanda grazie poi del ricordo del satirico questo è indubbiamente vero la cosa straordinaria di Dante è che Dante non dice Dante non dice che Ulisse e chi usa il proprio ingegno in maniera sfrenata viene punito ma dice che punisce se stesso e questa è una cosa molto interessante una cosa interessante perché dice no non è non è che in certo senso quello che Ulisse sta cercando di fare Ulisse sta cercando di appartenere a un tempo che è nel futuro Ulisse sta cercando di navigare in acque future nelle acque cristiane non può semplicemente non può arrivare in paradiso perché il paradiso è chiuso è semplice e quindi la sua fine è una fine inevitabile ed è lui stesso che è la causa di questa poi se noi cerchiamo a vedere nel contesto del canto ventiseiesimo non possiamo non non possiamo ignorare il fatto che Ulisse in certo senso è già è già condannato prima che incominci a raccontarci la storia della sua morte perché è colpevole di tre peccati mortali i tre peccati raccontati o meglio elencati da elencati da Virgilio ma Dante quindi è molto attento a farci capire la natura tragica di quel viaggio dell'ultimo viaggio di Ulisse questo secondo me è la cosa più più bella più straordinaria la ragione per cui questo canto rimane ancora tra i canti più frequentati dai lettori e non solo dai lettori di Dante la natura tragica di quel tentativo che è il tentativo di conoscere quello che non non ci è permesso di conoscere ora detto questo detto questo io sono d'accordo con quello che diceva di che e certamente questo può venire usato come tanto stesso lo usa molto spesso per tenere a loro posto chi voleva andare oltre insomma chi voleva andare contro probabilmente l'autorità e via dicendo quindi sono d'accordo in questo ma io volevo adesso fare una domanda a francesco francesco ecco ecco qui sì sì francesco ecco no quella bellissima lezione che tu ci hai ci hai fatto vorrei vorrei farti una domanda molto molto ingenua ed elementare la mia impressione con l'allegoria e devo dire che ho passato molto tempo a studiare l'allegoria è che veramente non esista una allegoria o una teoria dell'allegoria che cioè esistono pratiche allegoriche diverse nel tempo nello spazio agli autori e così via e che quindi noi abbiamo cercato noi diciamo studiosi di queste cose abbiamo cercato secondo me in vano di definire l'allegoria ma non si dovrebbe mai cercare di definire l'allegoria si dovrebbero si dovrebbe probabilmente cercare di definire pratiche allegoriche diverse ecco questa idea mi è ritornata a mente quando tu hai fatto cosa dicevo la tua bellissima presentazione perché tu ci hai presentato dall'inizio alla fine pratiche allegoriche veramente diverse veramente diverse contraddittorie e così via anche questa storia dell'infactis e l'inverbis e la poetica si continuano a girare l'una 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 diventa l'altra c'è una quindi c'è veramente una 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 continua una continua vitalità nella 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 pratica allegorica che direi corrisponde a che cosa alla vitalità della letteratura stessa è vero sì eh io sono perfettamente d'accordo con questa visione eh credo che il il nostro tentativo insomma della teoria della letteratura attuale di 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 definire che cos'è l'allegoria dipenda un po' dalla teorizzazione romantica della distinzione fra simbolo e allegoria che risale a Goethe e poi da Goethe deriva tutta una serie poi con cambiamenti anche di posizione però sostanzialmente una posizione che è quella romantica che favorisce il simbolo rispetto all'allegoria considerata come una forma da di letteratura fredda eh puramente retorica ecco senza vitalità senza profondità e purtroppo la cultura italiana e anche la critica dantesca in particolare è stata pesantemente condizionata da questa visione perché tutta la critica accademica a cominciare da da De Santis naturalmente poi i vari Dovidio eccetera fino a Croce ovviamente hanno svalutato radicalmente tutti gli aspetti allegorici dell'opera dantesca gli studiosi ecco ritorno proprio sulle premesse che avrei voluto fare prima il è vero che gli studi sull'allegoria dantesca sono fioriti insomma in seguito alle opere di Curzius Auerbach eccetera ma nel nella seconda metà dell'ottocento uno dei più grandi dantisti italiani secondo me completamente dimenticato e cioè Francesco Perez aveva già chiaramente delineato gli aspetti importanti e le fonti medievali dell'allegorismo dantesco poi è stato è stato obliterato completamente da tutta quella scuola storica positivistica insomma dei dantisti che che a loro che poi hanno attaccato duramente anche Pascoli il quale si rifaceva per alcune sue idee alle proprio alle posizioni di Perez e cioè insomma il discorso sarebbe lungo ma volevo dire che c'è stata insomma partire da Goethe dal romanticismo tedesco una svalutazione dell'allegoria che partiva da una presunta definizione dell'allegoria e molti studiosi della letteratura medievale di Dante in particolare sono stati pesantemente condizionati da questa visione dell'allegoria in realtà come si vede e come giustamente dicevi ci sono diverse concezioni dell'allegoria quello che è importante secondo me per capire l'opera medievale le opere medievali e quella dantesca in particolare è di cercare di individuare la concezione dell'allegoria alla quale loro si riferivano perché anche se si studia appunto la teoresi sull'allegoria in tutta l'esegesi cristiana della Bibbia da Clemente Alessandrino in poi si vede che ci sono variazioni posizioni diverse rifiuti anche dell'allegoria dell'allegoresi diciamo della possibilità di interpretare allegoricamente lo stesso Agostino scrive un trattato di genesi ad litteram non perché lui rifiutasse l'allegoria ma ci sono però dei commentatori della Bibbia che rifiutano radicalmente un allegoresi biblico e quindi in realtà ecco ci sono naturalmente diverse concezioni dell'allegoria però ci sono anche delle teorizzazioni non è che manchino le teorizzazioni sull'allegoria nel De Doctrina Cristiana Sant'Agostino teorizza l'allegoria in maniera molto precisa inserendola in un in una visione generale di tipo semiologico in una semiologia cioè parte da cos'è il segno il segno anche non verbale quindi proprio una teoria semiologica generale alla quale di passo in passo si arriva fino all'allegoria biblica all'interpretazione allegorica i diversi tipi di interpretazione allegorica quindi ci sono anche delle teorie ma che variano a seconda dei tempi e a seconda degli autori e anche gli scrittori si riferiscono a una certa concezione dell'allegoria non so Prudenzio si riferisce a un certo modo di vedere l'allegoria nel suo tempo a degli autori anche non religiosi per esempio non cristiani si riferiscono ad un altro tipo di allegoria o di allegoresi e quindi credo che sia sempre importante individuare il modello teorico di allegoria preciso a cui questi autori si riferiscono e non cercare di applicare una nozione generale di allegoria che è moderna per forza insomma e che non corrisponde al modo in cui loro vedevano le cose tra l'altro nel lessico medievale in genere anche in quello di scottoriugena l'allegoria comprende il simbolo perché il simbolo è un tipo di allegoria particolare un'allegoria puramente diciamo verbale metaforica io volevo volevo fare una domanda a Francesco ma appunto le cose che avete detto mi convincono e mi confortano perché già temevo non lo farò adesso perché se no faccio adesso dico le parole che devo dire domattina però mi confortate rispetto proprio a questa nozione plurale di allegoria perché appena appena un timore stavo pensando prima ecco che si aprisse il convegno ma chissà magari se io provo a dire che non è univoca no invece ecco sfondo la porta aperta quindi benissimo e proprio per esempio ecco tornare un po' a considerare meno severamente Pascoli sarà importante e altre cose ma ripeto non vi voglio far perdere tempo dovendo invece farvi perdere tempo obbligatoriamente domattina invece volevo chiedere a Francesco proprio per questo cosa pensi della riproposizione che sia Petrarca sia Boccaccio fanno di questa diciamo di questa nozione della duplicità perché Petrarca adesso ricordo il sintagma preciso obliquis figurazione Boccaccio nelle genealogie costruisce tutto sul velamento fabuloso no ecco quindi al di là di tutto loro tirano un filo certo uno diciamo un filo ed è quello appunto dei dei io mi ricordo giustamente questa dimensione semiologica di Agostino no davvero antelitteram ricordo sempre quella affermazione credo proprio nel De Doctrina di Cristiana multum interest inter ea quedicimus et ea de quibus dicimus aliquid insomma c'è bisogno di tanti trattati novecenteschi ecco per me questa è sempre stata una cosa molto forte no giustissimo la teorizzazione di Petrarca che è un po' disseminata in vari scritti mentre nella generologia Boccaccio dedica un libro intero anche due insomma a trattare questo aspetto cioè sì appunto degli ultimi libri riprendendo peraltro e citando ampiamente Petrarca perché riprende sostanzialmente le idee di Petrarca e le cita sono uno sviluppo della posizione dantesca in una direzione sempre più si potrebbe dire umanistica perché c'è quasi una identificazione fra poesia e teologia in Boccaccio in modo particolare cioè Boccaccio i primi i primi poeti erano dei teologi e sembra di poter dedurre specialmente da dalla teoria Boccacciana che Boccaccio consideri la 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 scrittura la sacra scrittura la Bibbia come un testo rivelatore di misteri riguardanti la divinità eccetera non tanto perché è la Bibbia cristiana ma perché è un testo scritto allegoricamente e che deve essere interpretato allegoricamente così come lo sono Orfeo Museo eccetera i primi mitici poeti greci cioè in entrambi sia negli antichi poeti greci secondo c'è tutta una tradizione precedente naturalmente in questo senso ma sono quasi equiparati alla Bibbia perché si tratta in entrambi in casi di forme di espressione allegorica che nascondono che celano sotto un velo delle verità profonde che riguardano la divinità e l'origine del mondo eccetera e quindi sono d'accordissimo sono molto importanti queste insomma le pagine sia quelle di Petrarca specialmente nell'invectiva contro medicum dove si sofferma a lungo anche proprio sulla questione dell'oscurità a cui accennavi difende dal medico che rideva l'oscurità dei poeti citando l'oscurità delle scritture che proprio l'obscuritas scripturarum che proprio Agostino aveva difeso e di cui aveva indicato le ragioni profonde perché Dio che nella Bibbia che dovrebbe essere rivelazione a tutti gli uomini della verità alle volte è oscuro no? perché deliberatamente oscuro no? la Bibbia è deliberatamente oscura e Agostino ma come anche altri scrittori cristiani porta tutta una serie di ragioni in questo senso Petrarca le riprende alla lettera per difendere l'oscurità della poesia ecco quindi mi sembra che siano diciamo delle delle posizioni che diciamo sono sulla scia della posizione dantesca ma forse rispetto alla posizione dantesca come io ho cercato di definirla dove c'è veramente un innalzamento della poesia alla teologia una promozione della poesia a teologia quasi una promozione della poesia sacra scrittura in Petrarca e in Boccaccio mi sembra che ci sia quasi una equiparazione del dei della scrittura sacra e della letteratura e della poesia in modo particolare scusate se intervengo vi ho proiettato forse dello schermo si vede proprio in relazione a queste ultime parole che abbiamo ascoltato il fatto siamo nel palazzo dei giudici e dei notai a Firenze e abbiamo proprio Dante Petrarca Boccaccio e Zanobi da strada con Dante qui con il libro con la commedia aperta e poi c'erano anche gli altri gli altri poeti questa è un po' l'idea che ormai in Dante poi appare evidente nella fresco nella tavola che c'è in Duomo di Domenico di Michelino in cui c'è questa assimilazione proprio anche dell'iconografia sacra con il poeta Dante che diventa il poeta teologo quindi questo discorso effettivamente poi viene recepito nella storia dell'arte in modo eccellente posso fare una domanda anch'io all'inopertile riguardo alle fonti insomma che può aver conosciuto Dante riguardo riguardo all'interpretazione allegorica della figura di Ulisse delle sirene dunque beh naturalmente la storia delle sirene le tre sirene in tre strumenti musicali eccetera sono presenti anche in quasi tutti i bestiari e sicuramente Dante aveva conoscenza di qualche bestiario erano opere talmente diffuse il resto riprende più volte le notizie che derivano dai bestiari però pensavo ad un'altra fonte e per cui vorrei chiederti e cioè ad un'opera di Cicerone il Definibus dove a un certo momento Cicerone parla da un'interpretazione della figura di Ulisse come non tanto come chi è interessato dalla bellezza dei canti delle sirene ma dal desiderio di conoscere dal desiderio di conoscenza e fra l'altro è il testo che sicuramente era presente a Giovanni Pascoli nell'ultimo viaggio che anche quella è una specie di allegoresi dell'Odissea di riscrittura in senso allegorico dell'Odissea dove l'incontro di Odisseo con le sirene è l'incontro con la conoscenza definitiva la conoscenza della verità perché le due sirene sono due scogli in realtà contro i quali la nave di Ulisse si infrange e Ulisse muore mi chiedevo se questo testo se questo passo del definibus non possa essere tra i modelli possibili tra i testi che Dante poteva aver conosciuto scrivendo insomma il suo grande indubbiamente questo è un testo che viene spesso invocato appunto nel contesto delle fonti possibili dell'episodio di Ulisse in Dante io ne ho solo accennato non ne ho parlato ma è interessante perché è un testo in cui si sposa quella che chiamo l'allegoria popolare con l'allegoria molto più alta più elevata e quindi è un testo particolarmente interessante quello che mi colpisce di questo testo come possibile fonte è che sottolinea la natura diciamo America e allo stesso tempo universale della ricerca di Ulisse Ulisse questo è l'Ulisse viaggiatore l'Ulisse esploratore che in nome in nome del sapere rinuncia a tutto rinuncia a tutto per questo appunto pensavo non c'è dubbio che c'è noi non sappiamo con certezza se Dante lo conoscesse però certo che conosceva il De Filibus quindi secondo me non possiamo essere certi che si è imbattuto in questo passo si è imbattuto in questo passo e forse ci ha anche meditato sopra ma il bello è che in questo passo si concilia in certo senso l'idea di un'Ulisse popolare con un'idea di un'Ulisse con un'idea colta di un'Ulisse no perché anche nella storia di Onorio l'Ulisse riesce a ottenere quello che vuole e come del resto esattamente nei termini posti da Cicerone questo è un'Ulisse che vuol sapere è un'Ulisse che fa del proprio desiderio di conoscenza e la la forza l'impulso fondamentale della 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 sua della sua vita io ritengo che Dante faccia una cosa assolutamente straordinaria cioè che colla che collassi che collassi la l'Ulisse esploratore diciamo è vero nella l'Ulisse che vuole tornare a casa e che quindi l'esplorazione di Ulisse si rivolga in realtà a che cosa a questa civitate in futuro a questa idea di una patria futura e quella di Ulisse sia una ricerca di cosa di una ricerca di un paese con ignora come dicevo come dirà Baudelaire nell'Ottocento e quindi Ulisse soffra di una nostalgia del paese che non conosce cioè di una nostalgia del paradiso terrestre cristiano ecco la grande il grande anacronismo di cui poi il anacronismo intuito da Levi nell'intuizione fermata a Eboli c'è questo anacronismo è questo secondo me è che in Ulisse c'è questa questa intuizione intuizione che è perfettamente compatibile con quello che dice Cicerone la ricerca ma la ricerca di secondo Dante è una ricerca sì del sapere ma di quale sapere il sapere ultimo dov'è il sapere ultimo è nel paradiso terrestre è quello questa è l'ultima patria l'ultimo porto la vera di Ulisse ecco questa io la metterei in questo in questo modo devo intervenire solo perché abbiamo delle domande da coloro che ci stanno ascoltando abbiamo circa 300 iscritti che ci stanno ascoltando e qualcuno di loro ha fatto delle domande allora io leggerò le domande alcune forse semplici a cui si può rispondere però comunque per onestà perché insomma loro sono comunque in streaming c'è Alessandro De Vita che chiede le parabole che noi possiamo leggere all'interno della Bibbia le dobbiamo leggere come allegorie in verbis o in factis e va bene questo forse insomma vi rispondiamo ma velocemente e poi c'è invece Lorenzo Bastida che rivolge due domande a Zambon e dice dall'accostamento tra il passo dell'epistola tredicesima e quello di Paradiso Quarto lei deduce che quanto Dante Pellegrino che quando Dante Pellegrino vede in Paradiso ah no no che quanto Dante cioè che quello che vede Dante Pellegrino in Paradiso sto leggendo la chat scusatemi vede in Paradiso sia una serie di allegorie d'altra parte l'ineffabilità su cui Dante insiste riguarda spesso la possibilità di ridire da poeta ciò che da Pellegrino ha visto e sentito si tratterebbe dunque di ineffabilità al quadrato o metaineffabilità dal momento che bisogna ricorrere ad approssimazioni linguistiche per comunicare qualcosa che non è a sua volta che un fittizio integumentum del vero e in questo dunque un attimo un attimo un attimo e in questo caso andranno considerati con status differente i canti dell'Empirio questa è la domanda per Zambon e nel caso chiedo a Giovanna di mandare in chat per iscritto al relatore la domanda che può rileggerla poi seconda domanda seconda domanda sempre della stessa persona sempre per Zambon crede che nella promozione a rango teologico dell'allegoria dei poeti sulla scorta di scoto e riugena sia la soluzione della diatriba visio versus fixio la seconda includendo la prima senza toglierne veridicità direi che intanto rispondiamo a questa poi andiamo avanti c'è anche Cecilia che vuole intervenire quindi posso rispondere subito sì sì certo ma comincerei dalla prima che è più semplice cioè nell'esegesi corrente insomma cristiana medievale le parabole sono un'allegoria in verbis naturalmente presso gli autori che teorizzano fanno una distinzione tra questo tipo di 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 allegoria e quella in factis perché i primi esegeti non so per esempio Clemente Alessandrino non fa questa distinzione sono diciamo i due tipi di allegoria di allegoresi si mescolano si intrecciano l'uno all'altro però ovviamente laddove questa distinzione è presente le parabole di Gesù rientrano nell'allegorismo in in verbis perché si tratta di non di fatti reali questo alcuni lo dicono in maniera molto esplicita anzi proprio l'esemplificazione di alcuni autori dell'allegoria in verbis comprende le parabole di Gesù questo senza dunque la seconda domanda che era più complessa eccola lì dunque non vedo perché dovrebbe trattarsi di ineffabilità al quadrato perché Dante distingue sia nel paradiso sia nell'epistola nel primo canto del paradiso sia nell'epistola due aspetti della diciamo difficoltà di narrare la sua visione e cioè il primo è di ricordarla e cioè di comprenderla intellettualmente di fatto e di mantenerla nella memoria il secondo è la seconda difficoltà consiste nell'esprimere quello che si si ricorda quel poco o quel tanto che è rimasto nella mente quindi le approssimazioni linguistiche cioè l'allegoria o l'esempio nel caso proprio estremo in cui neppure l'allegoria in verbis possa servire a qualche cosa l'integumentum ecco il appunto dicevo nel caso dell'allegoria in verbis non non si può dire quel poco che è rimasto nell'intelletto cioè qualcosa è comunque scomparso inevitabilmente secondo la concezione di Dami perché non è rimasto la memoria non ha potuto conservarlo l'intelletto non ha potuto conservarlo di quel poco che o tanto che sia insomma di quello che comunque è stato conservato nella memoria non si può dire l'essenza diciamo no non si può esprimerlo nella sua vera essenza nella sua completezza perché è ineffabile in sé la cosa quindi la difficoltà riguarda la difficoltà espressiva riguarda evidentemente soltanto ciò che è rimasto nella memoria quello che non è rimasto nella memoria ovviamente il problema di esprimerlo non si pone neppure non so se ho risposto alla domanda casomai se poi magari abbiamo di nuovo qualche si direbbe feedback in inglese ma insomma qualche nuova domanda poi su questo punto la ripropongo dunque invece ecco no e poi c'era la terza la terza domanda no subisio ecco questa mi è sfuggita non non la vedo sì cioè ricordo che ora no non non la vedo allora quella che crede che nella promozione a rango teologico della storia dei poeti sulla scorta di scoto iriugena sia la soluzione della diatriba viso la seconda includendo la veridicità sì naturalmente secondo l'interpretazione estrema che si può dare e che comunque è quella che hanno dato alcuni dantisti insomma importanti come come dronche come freccero che partendo proprio dal quarto canto del paradiso dal discorso di Beatrice da riferimento a Platone dice a Dante così parlare convienzi al vostro ingegno quindi la visione in realtà è una rappresentazione in qualche modo adattata al all'ingegno umano all'intelletto umano così come rappresentare lo dice Dante non un benio Beatrice nel suo discorso Dio con mani e piedi no cose che evidentemente non ha è solo un modo di esprimersi agli uomini della Bibbia questo però ecco giustamente osserva fino all'Empireo dove invece ecco poi quella visione di Dante nell'Empireo è una visione reale nella concezione di Dante ovviamente oppure è anch'essa un modo di parlare al nostro ingegno in qualche modo io non mi azzarderei a dare una risposta anche gli dantisti che mi pare fosse Freccero dice che bisogna considerare appunto come finzione tutta la costruzione del paradiso almeno fino all'Empireo no forse da questo parte la domanda non saprei dare una risposta definitiva eventualmente la lascio gli illustrissimi dantisti che sono presenti però io direi di sì perché comunque anche se la rappresentazione in qualche modo è più vicina alla realtà perché effettivamente nell'Empireo si trovano tutti i beati anche questa è pur sempre una forma di rappresentazione di raffigurazione potremmo dire potremmo dire un'allegoria anche questa insomma la rosa sono tutte espressioni di tipo allegorico rappresentazioni di tipo allegorico direi questo grazie invece per il professor Pertile Francesco Cataldi chiede a proposito di Dante e delle sirene in Purgatorio 19 versi 22 seguente lo leggo per tutti perché ci ascoltano io volsi Ulisse del suo cammin vago al canto mio e qual me cosa usa rado se in parte si tutto l'appago nel contesto del secondo sogno di Dante in Purgatorio cioè la femmina balba cosa pensa in questo passo Dante si riferirebbe a Circe intesa come una sirena visto che non è plausibile che ignorasse della resistenza vittoriosa dell'eroe detto più o meno la domanda certo no dico la risposta definitiva non la sappiamo perché solo Dante la sa ma a me sembra ragionevole pensare che in questo caso la sirena sia veramente una Circe Circe la sirena non è anche se metaforicamente una sirena ma non 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 vedo come altro possiamo spiegare questo questo ricorso alle alle sirene nel diciannovesimo del del Purgatorio quindi sì ecco secondo me è una risposta ragionevole dire che Circe è la sirena che Dante ha in mente quando parla appunto della 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 sirena che diventa poi la femmina balba nel del sogno del del diciannovesimo del purgatorio se volevo lasciare ancora la parola a Cecilia Filippini che ti lascio la parola grazie io volevo appunto approfondire un po' quel discorso che è stato fatto riguardo anche all'interpretazione allegorica tra antico e nuovo testamento perché per esempio mi viene in mente quel passo del Siracide in cui la sapienza tesse l'elogio di se stessa e la sapienza è come dire quella definizione che poi viene attribuita al Cristo ma da vari commentatori quindi c'è un passaggio come dire di consegne da antico e nuovo testamento e in questo si inserisce anche un'altra simbologia quella della sposa per esempio anche la sposa nel cantico dei canti ci viene riferita al popolo di Israele secondo l'interpretazione dell'antico testamento e poi invece diventa la chiesa sponsa Cristi e questo insomma è attestato da origine in poi quindi c'è una tradizione molto vasta a cui Dante poteva fare riferimento e questo conferma diciamo dal mio punto di vista da storica dell'arte anche il fatto che gli illustratori migliori della commedia dipendono da una tradizione di figurazioni che trae proprio le proprie origini dalla Bibbia dall'illustrazione della Bibbia e naturalmente appoggio quello che ha detto il professor Zambon anche dalle prediche di Sant'Agostino perché ci sono proprio dei rimandi iconografici che connettono a certe raffigurazioni del poema dantesco all'illustrazione di alcuni scritti di Sant'Agostino tra cui le prediche quindi c'è questa tradizione che si tramanda quindi conferendo ancora maggiore veridicità al ruolo rivelatore della poesia dantesca grazie sì naturalmente sì l'interpretazione figurale è quella largamente prevalente in tutta l'esegesi medievale e del resto il suo archetipo è il testo paolino dove le due spose di Abramo prefigurano i due testamenti quindi diciamo anche nell'iconografia tutto questo è larghissimamente rappresentato e io penso ho detto che anche in Dante ci sia questo perché non solo nell'epistola Can Grande di cui si può anche discutere l'autenticità ma anche nella commedia per esempio Dante riferisce l'exitus dall'Egitto al battesimo e alla salvezza quindi è una delle più tipiche più classiche più diffuse interpretazioni figurali dell'allegoria in factis nell'esegesi cristiana quello che ho cercato di dimostrare insomma non so se sono riuscito è invece l'importanza che mantiene per Dante ed è l'aspetto più nuovo della sua poetica diciamo l'allegorismo invervis che invece era solo un aspetto molto secondario nell'esegesi della Bibbia abbastanza secondario certamente subordinato all'alto invece penso che Dante e proprio perché Dante è un poeta e diciamo congiunge questa concezione alla sua visione della poesia proprio per questo in Dante assume un'enorme importanza invece come peraltro c'è in teologi come scopri di e sì grazie questo è l'aspetto effettivamente più nuovo perché l'altro è chiaro siamo abituati a sentirlo insomma da lungo tempo da ride l'ubacca insomma in post quindi va bene grazie molte per tutto quello che insomma ci siamo detti se non ci sono altri interventi e non io non vedo non ci sono altre domande e dei insomma che ci arrivano dal da chi ci sta ascoltando direi che posso posso fare una domanda a Diego Quaglioni certo ma proprio diciamo una pura e semplice domanda curiosità e cioè questo rapporto tra diciamo tra l'autorità religiosa l'autorità ecclesiastica e il potere che appunto Dante stesso discute nei termini che hai magnificamente illustrato è mai stata confrontata seriamente con le concezioni del rapporto fra autorità sacerdotale e potere regale in ambito orientale perché questo è un punto è un aspetto molto importante molto discusso nell'ambito dell'induismo per esempio con prevalenza a seconda delle correnti e delle posizioni di 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 chi pone al primo posto il potere regale diciamo e chi invece pone l'autorità sacerdotale ci sono culture e tradizioni diverse in questo senso nell'ambito orientale ecco mi chiedevo ma è proprio una semplice domanda da ignorante se mai si è tentato di fare un confronto tra la posizione dantesca e poi naturalmente tutto il dibattito che avviene in occidente nel medioevo su questo tema e questa tematica in ambito nelle nelle tradizioni orientali sì questa è una tematica fondamentale in un ambito in un larghissimo ambito della letteratura dell'età intermedia che è quella degli specula principum la letteratura speculare lì lì veramente c'è una una forte permeabilità tra le tradizioni orientali e quelle occidentali che si manifesta nel passaggio per per semplificare fino all'estremo dall'alto al basso medioevo soprattutto per il tramite degli specula di età carolingia ma non solo c'è l'età ottoniana da questo punto di vista particolarmente interessante soprattutto durante l'impero di ottone terzo per la sua formazione di tipo orientale per i suoi vincoli con 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 l'Oriente con l'impero d'Oriente per la sua educazione greca per l'ideologia che porta con sé ma ciò che rende il discorso più difficile è la difficile comparazione tra un trattato come la monarchia e questo tipo di letteratura perché la monarchia non è uno speculum non è uno speculum principis non non ne ha le caratteristiche non ha nessuna delle caratteristiche della letteratura speculare non è non è un modello è qualcosa altro quindi sarebbe poco produttivo anche fare un'eventuale comparazione con le teorizzazioni militari diciamo che da quello che dici possono aver influito nella letteratura dei regimini a principi in qualche modo ma non forse sulla monarchia di Dante è una è una questione estremamente interessante e la si può porre veramente con come un interrogativo molto molto importante da 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 aprire io 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 veramente non credo che la monarchia di Dante abbia mai avuto per esempio il senso che spesso le è stato dato e che continua ad esserle dato di costruzione di tipo utopico dove ancora una volta si fa riferimento ad un modello ma non la monarchia è lontanissima da questo tipo di modellistica politica o teologico politica è molto più vicina ad una almeno per una sua parte la terza che è quella di cui oggi io parlavo al al dibattito ecclesiologico al dibattito eh interno alla alla cultura e alla scienza giuridica del tempo il modo con cui Dante utilizza lo strumentario della canonistica il modo in cui si accosta al lessico della canonistica e alle fonti e non è quello di un di un orecchiante è quello di un uomo perfettamente immerso in un ambiente intellettuale nel quale occorre padroneggiare degli strumenti raffinatissimi nella discussione la monarchia è è un trattato è la somma di tre questioni di tre grandi questioni discusse con stile diverso a seconda dei libri il primo lo sappiamo è appunto un libro di quasi piena inclinazione teologico filosofica il secondo il secondo è quasi un prosimetro è una ricerca di tipo storico è una valutazione di testimonianze storico letterarie dove le testimonianze letterarie sono testimonianze vere il terzo libro ha l'andamento di una questio scolastica ma ha di una questio della scolastica giudica per cui non c'è una modellistica e non c'è praticamente nulla che ricordi una letteratura che invece ha ha avuto una diffusione larghissima in età intermedia e ce l'ha ancora ai tempi di Dante appunto la letteratura speculare non non mi pare di vedere contatti con quel tipo di di letteratura che che si prolunga poi anche nella nella modernità fino ad Erasmo e oltre grazie no grazie a te grazie della 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 questione ricordo che della reazione di Diego Paglioni a tutti quelli che ci ascoltano parleremo anche nella nella tavola rotonda perché sono andati via i due storici del diritto quindi ecco abbiamo purtroppo tasciuto delle questioni perché erano questioni che avevano bisogno di specialisti e quindi grazie anche per la domanda perché giustamente chi ci ascolta e insomma si rende conto che poi sono questioni così complesse che vanno ragionando delle quali bisogna ragionare con insomma con chi se ne è occupato a lungo dunque Lino volevi dire qualcosa no volevo chiedere una cosa al professor Paglioni perché io non ci sarò questa sera quindi o domani non ci sarò quanto importante è l'argomento allegorico o diciamo la chiave allegorica per la dimostrazione che Dante articola nel trattato nella monarchia quanto importante è ma io credo che lo sia e lo sia parecchio perché l'impressione che Dante voglia radicalmente negare l'uso del senso allegorico nell'affrontare il problema della relazione tra l'autoritas religiosa e la potestas secolare è un'impressione errata in realtà alla fine la dimensione della della metafora o del dell'uso del senso metaforico nel nel dibattito intorno alle due potestà alla loro relazione e alla loro relazione in termini di maioritas e di minoritas è risolta conservando l'uso della della metafora fino in fondo fino in fondo il richiamo alla luce alla luce della grazia alla luce che è propria del dell'astro che figura il potere temporale insomma è una è un richiamo costante non è mai abbandonato dal momento in cui Dante risolve il problema del del sillogismo difettivo degli avversari che confondono ad un certo momento la luce con l'autorità Dante torna alla metafora e la accoglie in fin dei conti fino in fondo fino a predicare una funzione illuminatrice dell'autorità religiosa sulla autorità secolare non c'è soltanto una reciproca limitazione c'è una influenza che è innegabile e che però da diciamo gran parte della letteratura almeno fin quasi ai nostri giorni è stata quasi subita come una contraddizione Claudia Di Fonzo prima faceva richiamo a Kelsen e alla sua opera giovanile sulla teoria dello stato in Dante che ha avuto una importanza decisiva per lo sviluppo della delle dottrine del delitto pubblico in Europa ai primi del novecento e la premessa di quello che Kelsen che è il più grande di un'istata del secolo insomma svilupperà poi qualche anno dopo nella sua tesi dottorale sui concetti fondamentali del diritto pubblico Kelsen lamenta che Dante non abbia fino in fondo predicato la separazione e che invece si sia arreso alla fine inquinando in qualche modo la purezza di un pensiero che avrebbe reso la dimensione secolare del potere finalmente autonoma e fondata su se stessa ma Kelsen trova ispirazione da questa supposta contraddizione dantesca per predicare una visione monistica dell'ordinamento non c'è nessuna possibilità di affermare la relazione tra due ordinamenti un ordinamento civile e un ordinamento religioso che convivono si integrano e interagiscono magari limitandosi vicendevolmente secondo me la grande la grande idea che sta al centro della monarchia dantesca è proprio questa questa idea della negazione della monodimensionalità del potere sia di quello religioso ma anche di quello secolare è un aspetto più difficile da cogliere e soprattutto più difficile da cogliere in termini moderni ma secondo me la permanenza fino in fondo del senso metaforico nella confutazione che non è una confutazione radicale nel senso della separazione totale è una confutazione che appunto ad un certo momento diventa più mite concedendo all'avversario una parte di verità e quella parte di verità è la funzione residua che il potere religioso svolge nei confronti del secolare una illuminazione affinché il potere secolare agisca virtuosius poi anche il significato di questo virtuosius può essere oggetto di discussione io continuo a pensare che lo si debba interpretare tenendo fede ecco al 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 testo al testo latino tenendo fede tenendo fede al al significato proprio del testo latino non modernizzando non attualizzando con traduzioni appunto come più efficacemente più effettualmente anche nella traduzione inglese della show c'è un efficaciously che non mi pare sia perfettamente calzante è una virtus ed è una virtuosità quella di cui Dante parla di cui il potere secolare ha bisogno è come se si dicesse in termini di piena modernità e di rapporto tra stato e chiesa che lo stato ha bisogno della chiesa può non piacere però è così c'è una funzione inderogabile del potere religioso che è quello di in qualche modo limitare ed assistere in una autonomia vicendevole ma l'autonomia del potere secolare è un'autonomia reverente cioè debitrice di una funzione illuminatrice questo è Dante si può capire che ai suoi interpreti ottonovecenteschi tutto questo si è apparso alla fine sorprendente e spiacevole così appariva a Kelsen che è uno dei primi almeno in ambito giuridico ad utilizzare sapientemente l'edizione di Witte della della monarchia e su quella che lui costruisce il suo trattato 1905 è un Kelsen 26enne ecco è un Kelsen che però sta organizzando attorno al testo di Dante tutta la sua filosofia giuridica e tutta la sua scienza giuridica e anche questo è un fatto rimarchevole la la grande giurisprudenza del novecento è partita da Dante nei suoi generali prego grazie 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 quel virtuosi ora naturalmente quindi si può si può leggere nello stesso modo in cui si può leggere il quell'accenno la virtù nel 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 26esimo del dell'inferno dove Dante dice che l'ingegno va usato sotto il freno della virtù è vero giusto esattamente questa virtù e questo virtù è una virtù operativa è un è un è un è un è un sì esattamente questo 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 virtù visto di questo genere che appare non è quindi efficacia o effettualità o via dicendo è proprio la virtù vera e propria è quella che controlla l'attività dell'ingegno l'attività umana sì sì e anche l'operare politico è l'operare politico no è molto interessante quindi questa questa lettura letterale di quella di quel termine sì non mi riesce di abbandonare il no no secondo me non si deve no infatti infatti grazie credo anch'io grazie a lei ti prego grazie grazie a te ti sarei onorato se no ma certo abbiamo abbiamo inaugurato l'uso l'uso inglese per il convegno anch'io che non ho mai dato del tu ho dato del tu oggi hai ragione per non farlo allora grazie a tutti e dobbiamo chiudere perché insomma per rimanere un po' per essere onesti nei confronti di chi si è impegnato per ore a fare relazioni e per non abusare della vostra pazienza e ci per chi può ci vediamo domani grazie infinite ai ai relatori alle loro bellissime relazioni magistrali saluto tutti e a domani ci aggiorniamo alle nove alle nove e un quarto con la sessione in cui ci sarà Rino Caputo Varela Porta Sordugna che credo sia già dovuto andare via e la relazione di Pia Dörig che dovrò leggere io perché lei ha avuto un problema di salute quindi ascolterete me ma con la sua relazione grazie a tutti grazie a tutti